Musica 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 distruggere la scheda madre al duca! Mi stare facendo tirare giù lo studio! Prendi vita! Oh, attenzione, grazie mille per i 50, salve, grazie! Grazie mille! Potrei stare sul porto, grandioso! No, no, no! Mi danno fastidio i bambini, porco Dio! A me, a me ha fastidio i cani, e le babysitter mi fanno schifo, non le voglio te! E poi lo facciamo! Non ti incazzare perché sì, siamo arrivati a un punto, Marco, ma non ti devi incazzare, Marco! Ma non ti incazzare, sono provati, sono provati! Siamo arrivati a un punto, Marco, basta! Quando hai capito che poteva diventare un lavoro? Oh, la votate mai, hai preso un bocca tutto il giorno! Questa volta è vero! Che c'è, Gianlu? T'apposto? Ci c'ho bene! Però quello che vuole essere lo vodomizzato in questo momento sono io! Toledo! Però dico, questa volta è vero! Toledo! Tipo la figa, bocca nel culo e cazzo nella figa! Questa scuola c'è addosso! Questa volta è vero! Chiamiamolo a Bruce! Chiamare per gente! Parle l'uomo! Salvalo e mandacelo su Whatsapp! Se no facciamo come la miniera, quel canale che apre e ti vuoi suicidare! Questa volta è vero! Gli so perché questa volta è vero, no? Questa volta è vero! Che te vedi? Oh, io sto giocando sicamente qua! La maggior parte dei lavori online si basa sul brand identity, eh! Tu! Sei rotto pure il cazzo della figa! Alanna, mi sto sentimando! Alanna! Bella di figa! Alanna! E c'ho un cazzo! Così, oh! Lo vedo e lo creo! Lo vedo e lo creo! Lo vedo e lo vedo e lo vedo! Lo vedo e lo vedo e lo vedo e lo vedo! Mai, mai, mai interagito! Mi dice anche che gli ho sfantato! Si, si dirà anche gli ho, eh! Se fanno ancora così, cade la live dove li ho sfantato! Una cosa del genere! Mi sa che ti serve questo, zi! Te lo teniamo caldo, eh! E' legittimo anche rispondo a questi sì per video! Te lo tengo caldo! Caldo, caldo, caldo! Ciao, 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 ciao! Ciao, 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 ciao! Notte in ospedale, mi ricordo! Che cosa ho fatto? Notte in ospedale che è un vecchio simpaticissimo! Al fianco io ero troppo bene, ma di notte neanche mi stava! Cioè, era anziano, purello! Cioè, è una cosa particolare! Faccia tipo... Un goi? Ma a te ti piacciono quelli in carne? Io almeno sono enorme, oramai, questo film è incerto! Ma sei un po' ingrassata, però è enorme! Sei un bel pazzo te, eh! C'è sta rubino che si è perso il borsello, ragazzi! Ragazzi, state seguendo quello che sto facendo con lo scom? I numeri che stiamo facendo con il mio amico? Abbiamo fatto il botto! Tra poco vi pubblico il saldo di quello che abbiamo fatto finora! E lui, successivamente, pubblicherà una schedina dove potete provare a vincere 100.000 euro! Andate sui link sulla pagina! Ha mai fatto un capodanno in casa senza luci Vicino a una stufa a gas, temendo ti bruci Nascondiamo quel dolore sotto a dei cappucci Con un'aria superba e delle false gucci Gli ultimi mesi in trasferta t'ha preso A nemici! Ma che stai a fa'? Ricordate che i squali stanno arrivà' Hello! Close Shards! E benvenuti in questa nuova trasmissione! Che cos'è da Marco? È rimasta la base di tapparella di Elio Lestorietese Da oggi pomeriggio! E lo avevano! Cioè questo è un fail colossale! Io pensavo che stavamo a qualcuno E con chi stiamo a parlare? Cocchi con Luca Jurman Qui presente nel nostro schermo Ciao a tutti! Eccolo! Ciao a tutti! Come stai? Ciao a tutti! Bene, intanto grazie di questo invito E per questo invito insomma Ho detto ma il cerbero Quindi mi torcheranno come pochi Ho detto va bene ci sto Assolutamente sì Quest'invito è nato da me che sto sul divano spavaranzato E l'algoritmo di YouTube Sempre tanto le storie iniziano sempre così Ti vuole in faccia le cose dell'attualità L'algoritmo di YouTube mi consiglia i tuoi video Che sono estratti dalle tue live su Twitch Dove parli di argomenti di attualità musicale Come può essere X Factor o Amici Che sono argomenti ovviamente per la massa Ho capito subito che tu sei un professionista Che sa di quello che parla Poi ho subito collegato Che ovviamente già ti conoscevo In quanto come posso dire coach di Amici Quando era insomma nel 2005 credo Quando andavo alle medie Dal 2006 e dal 2011 Ah scusami 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 No scusati ci mancherebbe Posso farti una domanda subito a bruciapelo Visto che c'è stata questa introduzione In cui appunto sei ricordato la tua attività da insegnante Da coach, da vocal coach nel contesto di Amici Quanto c'era e quanto tempo c'era effettivamente Per dedicarsi alla parte didattica musicale del canto In un contesto come quello di Amici Almeno quello dei tempi Cioè c'era veramente un elemento di scuola? Eh perché sono le edizioni con Marco Carta Edizioni con Alessandra Moroso Sì per se anche so cambiate Giusto per name droppare qualche Bravissimo Sì c'era tempo didattico Non abbastanza come lo volevamo noi Diciamo didatti Perché in quel periodo a differenza di oggi Era tutto live Quindi non solo il serale Non solo il pomeridiano Ma tutti i giorni E c'era la scuola che era live In quel periodo su Sky E praticamente la scuola La casetta Era tutto 24 ore su 24 live Quindi tu entravi Che ne so Alle 9 del mattino Dentro le aule E uscivi alle 18 Alle 19 Chiaramente facevi la pausa pranzo Ma avevi una dietro l'altra Le cose da preparare In più io avevo cercato All'inizio specialmente Un breve periodo Di fare delle mini masterclass Perché non me ne fregava niente Di fare quelle diatribe Tra i docenti Anche perché Io quando ero entrato lì dentro Ero entrato Tra l'altro Era una cosa un po' macchinosa Non sono andato io lì Fatemi entrare Mi hanno chiamato Io per un po' di tempo Ho detto Non mi interessava Finché un giorno Stefano Settepanetto Dai però non puoi continuare a dire così Vieni giù Almeno perché Parli un po' con gli autori Con Maria E vedi tu Io non volevo entrare Tant'è che ho fatto solo una settimana di stage Però Quando ho visto che c'era un problema Con un ragazzo Che io avevo capito Che problemi aveva questo ragazzo Quindi era una cosa abbastanza normale Da mettere in ordine Diciamo così vocalmente parlando Ma ci sarebbe dovuto Avremmo dovuto avere del tempo giusto Per poterlo fare E le nozioni didattiche corrette Per poter aiutare questo ragazzo Allora poi sono entrato E da lì è entrato tutto il casino Però sono sempre stato uno contro tutti Fino a che a un certo punto ho detto Ragazzi mi sono stufato Me ne vado Però didatticamente Sì c'era il tempo Non abbastanza quanto ne avrei voluto Però c'era Una cosa che subito mi ha fatto affascinare Dalla tua figura È appunto questa passione per la musica Ma anche per la didattica Anche per l'arte della didattica Oltre che l'arte per la musica Ad esempio ho visto dei video Dove giustamente ti scagli Con il trattamento proprio pedagogico Che stanno subendo Cioè brutto insomma Che stanno subendo gli alunni di Amici In questa edizione qui Sì allora Pedagogicamente parlando Ci sono mille filosofie Mille modalità di attuare Una buona pedagogia a livello didattico Ma il problema didattico e pedagogico È dato dal fatto che Non essendoci dei reali docenti Ok di canto E quelli che vestono il ruolo di professore In video E dicono una marea di cazzate Talmente allucinanti A livello pedagogico diventa un problema Perché l'allievo si affida a qualcuno Che si rende conto Che non è didatticamente preparato Quindi non sa neanche Che cosa deve fare Quindi Parlanti di circostanza Ho visto oppure che si mandano avanti Determinati alunni rispetto ad altri Si fanno come posso dire Doppi pesi Doppie misure Per quanto riguarda l'uso dell'autotune O meno Esatto E tra l'altro Si manda avanti È assurda questa cosa Non stai mandando avanti Chi è veramente meritevole Ma stai mandando avanti Chi fa numeri di streaming Hai capito? Chi fa streaming su Spotify Cioè che è una roba anti-etica Anti-pedagogica Anti-didattica Ma soprattutto anti-culturale E anti-musicale Il commercio non c'entra una mazza Con ciò che è l'arte A livello culturale Il commercio è un'altra roba Hai capito? È un'altra roba Quindi sono due treni Che possono viaggiare Su binari paralleli Però sembra appunto Che il commercio Che è sempre andato di pari passo Comunque ovviamente Con le trasmissioni televisive E i talent Ovviamente Non c'è mai stato un periodo Dove era solo arte Zero con commercio Però mi sembra Che ormai la parte commercio Abbia completamente avviluppato tutto Sia per X Perché io ho visto X Factor tutto E mi è sembrato così Hai detto una cosa giusta? Di adesso però Sì di ora No perché tu hai detto È sempre stato In realtà no Tu pensa che fino all'avvento Non è autocelebrazione questa qua Ma è solo per farti capire Che cosa è accaduto Ok? Il pubblico Fino al 2007 Cioè fino a quell'anno maledetto Di Marco Carta Io l'unico Cioè se devo Avere un rammarico Cioè se devo dirmi che cosa Cioè se devo guardarmi allo specchio E dire Luca c'è qualcosa che è sbagliato Sì c'è una cosa che ho sbagliato Ed è una cosa molto importante Il fatto di aver aiutato Un sistema inconsapevolmente Pensando di fare una cosa giusta Affidando la conoscenza Nelle mani del pubblico Ok? Io pensavo che il pubblico Prima o poi non si sarebbe fatto Comunque fottere Il cervello Hai capito Da quelli che dirigono Dei teatrini Che non dovrebbero dirigere Il pubblico E invece quindi Questo è l'unico dramma Che io vivo Perché fino a quel periodo lì La discografia Ma proprio Snobbava E le radio Snobbavano totalmente I talent Cioè anzi Erano I ragazzi che andavano nei talent Erano quasi un po' presi in giro Un po' presi per il culo Capito? C'erano gli sfigati Che andavano A fare un tentativo Pur di emergere Sì c'era anche quella cosa Di semicorrida Tipo no? Di fare una selezione Anche di personaggi buffi Una cosa che è completamente Scomparsa C'era una sorta di snobbismo Io mi ricordo molto bene Nelle prime edizioni Sia di X Factor Sia di Amici C'era uno snobbismo Molto marcato Nei confronti Del ragazzo Che veniva dal talent Quasi ingiusto Nei confronti del ragazzo Perché magari era un talento Vero Reale Ma nel momento in cui Poi doveva confrontarsi Con i passaggi radio Con il firmare Per determinate etichette Insomma del giro major C'era sempre un po' Anche per paura Di sporcarsi Io non posso adesso Sponsorizzare Prendermi il ragazzo Che è uscito dal talent show Perché altrimenti Insomma si sporcava Un po' la purezza Ma Quello che a me Ha sempre fatto paura Però Del momento in cui L'arte viene unita A un discorso televisivo Commerciale In cui ci stanno sponsor In cui soprattutto c'è Anche un televoto Che ovviamente Poi tu sei Per forza di cose Costretto a scendere A dei compromessi Cioè Se quelli che Alimentano la tua smissione Sono le persone a casa Che ovviamente Fanno share E ti permettono Di avere degli investitori Tu in qualche modo A quelle persone Dovrai strizzargli l'occhio Soprattutto se votano Loro da casa E quindi tu Cominci a essere Un po' schiavo De persone Che de musica Ovviamente Non ci capiscono Non cazzo Che pubblica Perdonami il francesismo E nel momento in cui Dai in mano a loro La decisione È sempre meno Un discorso Strettamente didattico Strettamente artistico È vero quello che dici Ma c'è un'altra faccia Io guarda Ti dico Non sono mai stato Un amante Dei social Però mi ha dato La possibilità Di comunicare Con le persone Soprattutto Stare in televisione Quegli anni Mi ha dato L'opportunità Di capire Che la famosa frase Il pubblico Non è stupido Ok Ma lo si vuol Far passare da tale Ce lo si vuol Rendere stupido Perché se tu rendi Stupido Il pubblico Tu hai in mano Il potere Ok Questo è sempre Da sempre stato così In ogni cosa In ogni campo Dalla politica Dal mondo del lavoro Meno sai E più Io ti posso fotter Allora Quello che io ho fatto Da dentro E con i social Ho visto Che anche la persona A volte Prima non rispondevo più Il solito leone Da tastiera Non ti incacchiare Per quello che dicono Poi ho cominciato Ad affrontarli E a dire Sai che c'è Adesso tu mi dici Che io sono questo Che io faccio quello Che io ho sputato Sul piatto dove mangi Ti invito Se hai le palle A parlarmene in diretta Non viene Poi magari mi scrive In privato Io gli rispondo In privato E quando comincio A rispondere Ok E rispondo per le rime E gli faccio capire Poi determinate cose La più grande soddisfazione Quando quello che Ti odia Later A un certo punto Dice Sai che c'è Adesso vengo a seguirti Perché voglio capirci di più Quella è stata La più grande soddisfazione Perché anche ad amici Quando sono entrato io Ma parlare di vibrato Parlare di Respirazione profonda Di afframmatica Parlare di timbro Quindi la possibilità Di cambiare il timbro E far capire Che un cantante È un politimbrico Non è un timbro unico Hai capito Quindi se è un timbro Che fa cagare In certi punti Lo si mette a posto Guarda tipo Noi spesso Veniamo scambiati Per quelli che Cagano Snorcazzo Semplicemente O i bulli Ho capito E per spesso Siamo fraintesi Ho intuito Che anche tu Magari vieni frainteso Spesso Sì certo In che modo Vieni frainteso Perché aiuta invece A capire Cosa sei veramente Allora guarda Vengo frainteso Su un punto essenziale Il motivo Per cui io faccio Questa cosa E quindi vuol dire Ma mi rendo conto Che purtroppo Essendomi Apre chiudo una parentesi Ma fa capire Essendomi diplomato All'estero Ok Io ho studiato Con delle persone In un posto In un mondo Dove non esiste l'invidia Ok E dove non esiste Come dire Il non riconoscimento Cioè qui Se devi dire Ah cavolo Fai figo Quella cosa che fai Bella quella cosa che fai Non glielo dici A uno che potrebbe essere Più bravo di te No Questa è un po' la malattia Che c'è qua in questo paese Invece io arrivo A dare degli studi In un paese Dove Anzi Se tu sapevi fare qualcosa Di diverso Si gasavano E dicevano Cavoli Insegnamelo No Capito Quindi io sono Quando ho lavorato Quando stai fuori Dall'Italia Stai a 12.000 km Stai a Boston Sei in un altro mondo Ok E tra l'altro E tra l'altro Ci sono arrivato Con le pezze Scusa se lo dico Volgarmente parlando Ma con le pezze Al sedere Cioè Con le pezze Al culo Perché io Arrivo da una famiglia Umile E non sono ricco Non arrivo da una famiglia Ricca E non me ne fotte Niente di essere Ricco Per intenderci Ok Quindi io Ho vinto una borsa Di studio Che ho dovuto mantenere Per quattro anni In un certo modo Ho sudato L'inferno Capito Per quello E lì ho imparato Tantissime cose Quando sono arrivato In Italia La cosa che ho capito Che qui c'era Un problema Intanto Se tu sai È già un problema Perché vuol dire Che puoi dar fastidio A qualcuno Che non sa Quando scopri Che nel mondo Della musica In Italia Guarda Io vado in giro Ogni tanto A fare delle masterclass Oggi non le faccio più Ne faccio pochissime Perché se faccio Una masterclass In una scuola Gli insegnanti Di canto Ok Scappano Perché io Siccome faccio una masterclass Di 6-7 ore Dove spiego anche Che cosa deve insegnare Un docente Come lo deve insegnare Perché se no Non arrivano certi livelli Gli allievi in Italia Non potranno mai varcare Il confine Quando invece C'è un talento Pazzesco In questo paese Secondo me appunto C'è chissà La verità E se ne approfitta Chissà la verità Capisce Ma se ne allontana Perché dice Non riesco A stare in quell'ambiente Lì E mi è venuto in mente Anche l'esempio Di Morgan Che ho letto Un post Di una ragazza Che seguo Che secondo me L'ha descritto bene Un cavallo di troia Cioè uno che sa Uno che sa Si inserisce dentro Il contesto E poi quasi così Per follia Romantica Si vuole far implodere Dentro il contesto Stesso Lui c'è il sistema Dall'interno Sì però con scarsi risultati Perché c'è poco spazio Per farlo Ma una cosa Che ha detto Luca Mi ha fatto molto riflettere Il fatto che sapere Sia un problema Questo secondo me Divende dal fatto Poi tu Confermami o smentiscimi Che in Italia L'ambiente musicale Al momento È fortemente Deprofessionalizzato Quindi Sono tanti Improvvisati Anche nelle alte sfere Sia Insomma Grossi Persone che insomma Stanno a capo Di grosse produzioni Di grosse etichette È gente che non ha Tutta questa Grande figura professionale Quindi se arriva Una persona Che rappresenta Un'entità professionale Forte Rischia di romper Giocattolo a tutti quanti Nel senso Poi si vede la differenza Ma tu hai detto Una cosa Molto importante Certo che Hanno messo a capo O comunque Ci sono Non a capo a capo Ok Ma ci sono Diciamo così I vassalli Come dicevamo prima Che girano Hai capito Del potere Per andare a mettere La faccia E dire quattro cazzate Il problema Non è solo Chissà Morgan dove sbaglia Dove io Quando io me ne sono andato Così arrivo lì A fare un punto Così capiamo Colleghiamo queste cose Quindi partendo Da questo discorso Della Dell'invidia Io Quello che Che Il motivo per cui Do fastidio È che Ci sono ragazzi Che non sanno Il mio background Da dove arrivo Come arrivo Quindi mi prendono Per un opinionista Non mi prendono Per uno Che sa Quello che sta dicendo E che conosce Esattamente Tutti i meccanismi E che conosce Il 99% Di quelli Che vanno a fare lì Leccaculo A dire Quattro stronzate Hai capito Per non perdere Il posto Ma adesso Arriviamo tutti Te li collego tutti Te li dico tutti Quindi capito Ti dico tutto Come funziona E tu dici Ma davvero è così Sì purtroppo Ma la gente Non vuole sentirselo dire Capito Non se lo vuole sentir dire È meglio perché La gente vuole vedere La giostra che gira Degli ingranaggi dentro A pochi interessa Veramente Però Insomma Che ci vuole salire Dovrebbe saperlo Le fanno le spese I sogni dei ragazzi Ovviamente Perché poi il talent È un po' Un mercato Dei sogni Esatto Ma il problema È che tu giochi Sul sogno Non dei ragazzi E basta Loro giocano Con i sogni Di tutti Perché basta Solo il fatto Che tu faccia Credere A chiunque Che chiunque Può entrare In un talent show Ok Non capendo Che il talent show Non è Il talento Di salire sul palco E dire quattro stronzate È salire su un palco scenico Che nasce nella storia Per mettere in evidenza Qualcuno Che è fuori dal comune Primo Capito Quindi c'è un'unicità Che si differenzia Da tutta la massa L'artista È qualcosa di unico Raro Non è Non tutti sono Qui invece Stanno facendo passare Dei messaggi sbagliatissimi Che chiunque artista Che basta che metti Quattro barre alla minchia Su un brano Che tra l'altro Li stai rovinando Che è un'opera Magari Della nostra storia musicale Ci pigliano per il culo Quattro Trapper O rapper Che non sanno neanche Che rappare Non sanno neanche Cosa sia il flow Cosa è un ritmo Niente Ma dicono Quattro stronzate E funziona Solo perché C'hanno 18 anni Ma è tutto malato Il sistema Devono dirlo Per costruire il sogno Appunto Per far magari Illudere chiunque Vedi che Lì ci arriviamo È un anger games Hai capito Alla fine Quindi quando tu capisci Piano piano Negli anni Non è che si è fatto Dall'oggi al domani Questo sistema Questo cambiamento Uno dice Perché Prima non l'hai detto Ma quando c'ero io Quando c'erano altri Eravamo tutti in diretta E questa schifezza Così Non si poteva fare Morgan dove ti dico Che ha sbagliato Perché lui Se entra e fa il cavallo di Troia Ma non sei in diretta E lo sei solo nel serale È un problema Perché poi lì Hai tutti contro Ma non hai comprove Di quello Di quello che dice Che fai Hai capito Purtroppo hai tutti contro Ma non hai testimonianze in diretta Quando io me ne sono andato Io me ne sono andato in diretta Capito Me ne sono andato in diretta Su una trasmissione Che era in diretta E lì Nessuno se l'aspettava Non ho voluto dire niente a nessuno Ho aspettato Ho aspettato Ma quello che dico E dico tutti i giorni Ho tipo tre post scritti Se tu vuoi vedere i post su Facebook Perché poi Ho capito Che per poter far arrivare Al ragazzo Determinate cose Devo partire dal genitore Perché la maggior parte Dei genitori Sta educando male Quei ragazzi lì Allora quindi Prima devi dire i genitori Poi affiliarti ai genitori Poi cercare di far diventare Ma questo sai perché Lo capisco E lo so Perché qui Dove siamo adesso Cioè dove state vedendo Questo Voi non vedete di qua Ma chiaramente questa è la regia Del mio studio di registrazione Ma di là ci sono le sale cablate E ho la mia scuola E lo studio di registrazione Io questo mestiere Lo faccio da 40 anni Capito E ho lavorato sempre In serie A E anche in serie B C perché mi piace Se devo scoprire un talento Lo scopo Ma lo porto a livello dell'estero Invece qui È un altro È un altro gioco Stanno illudendo tutti Non ci sono più E parlato di produttori Perché i produttori Quelli storici Non ci sono più Ma cavolo Finché tu Prendi E abbassi talmente Tanto il livello Di realizzazione artistica Non di Vendite basta Per semplicemente Per guadagnarci sempre di più Su degli streaming E tu lo sai Perché voi lo fate Anche lo capite benissimo Lo sapete benissimo Per fare 2500 euro Devo fare un milione Di streaming Ma se io produco Simone Domani E spendo 15.000 euro Perché per fare Un signor singolo Una signora produzione Quindi fatta con Gli strumenti analogici A ricercare Il sound Perché sia unico Veramente A ricercare Gli strumentisti giusti Perché Non è che sono sempre Gli stessi musicisti In base A che cosa Costruisco E faccio un arrangiamento Quali musicisti metto Che produzione Creo Alla fine Sono mesi Di lavorazione Per un singolo Vendo Faccio 100.000 Streaming Dico Tavolo Simone Abbiamo fatto 100.000 streaming 100.000 stream Sono 250 euro Certo Purtroppo Io credo Che questa cosa Che dici te Era anche un metodo Di fare musica Appartenente Forse a Una ventina Di anni fa Ma dove C'erano Forse anche Più soldi Da investire Nella musica Registrata stessa Mi viene da pensare Cioè perché Ora quello Quello che osservo È che serve Velocità E quindi Tutto questo discorso Di registrare Analogicamente Per molti È fuori questione Per il discorso Dell'incessantismo Nella produzione Quindi vorrei capire Da voi Che magari siete Più esperti di me Quanto è il mercato Che influenza Il modo In cui si fa Il prodotto E viceversa Sono curioso Dell'opinione di Luca Perché io sono un po' Combattuto Quando si parla di questo Perché ovviamente Io bevo Ovviamente Anzi anche io dovrei bere Ovviamente Il cambiamento Del mezzo Cioè del supporto Dal supporto fisico A quello digitale Con tutta l'MPT Poi ad arrivare Allo streaming È un tipo di avanzamento Tecnologico Del campo musicale Che è inarrestabile Quindi non si può Pretendere di intervenire Su quello Ovviamente Adesso lo streaming Ha le sue logiche Di guadagno Di royalties Di mechanical rights Chiamiamoli come vogliamo Comunque Qualche soldo Arriva Ovviamente Agli autori Però il problema è Forse bisognerebbe Lavorare Sulle quote Che arrivano Agli artisti Ma non sul sistema Perché comunque In un mercato In cui è impossibile Ormai vendere I supporti fisici Il sistema Il vecchio sistema De royalties Non è più attuabile Non è neanche più Immaginabile Ad oggi Ma è l'ultima cosa Ti chiedo una ultima cosa No perché Altrimenti Poi c'è anche Quell'altro mercato Che tu conoscerai benissimo In questa editoria Di oggi Che è il mercato Delle royalties In advance Gli anticipi Quello è un mercato Forse ancora più malato Di quello delle streaming Perché ci stanno etichette O publishing Che danno Anticipi Di centinaia Di migliaia di euro A artisti Dei vent'anni Che si ritrovano schiavi A vita Per i prossimi dieci anni Di Un anticipo economico Su vendita I poteri dei dischi Che non faranno mai E si ritrovano schiavi Dell'etichetta O di un publishing Che poi Sarà controllore A vita Della loro creatività Della loro figura artistica Se faceva pure Negli anni settanta Sta cosa Cioè ti do cinque album Però li devi fare Solo con me Eh però erano Allora Posso dirvi una cosa Questo è la prova Quello che mi stai dicendo Mi stai dicendo È la prova Esattamente Loro sono riusciti A far pensare una cosa E te lo dico Perché avendo lavorato Chiaramente per tanti anni In discografia Proprio laddove do fastidio Cioè se devo parlare Con il presidente di Sony Parlo con il presidente di Sony Se devo parlare Con il presidente di Warner Parlo con il presidente di Warner Se lo manderà a fanculo Il presidente di Warner O il caro amico Alboni O come ho mandato a fanculo Rudy Zerbi Come ho mandato a fanculo Tanti altri Lo faccio tranquillamente Grazie mille per questo Capito? No no ma lo faccio tranquillamente Il problema è che sono riusciti A farvi pensare una cosa In realtà È cambiata la digitalizzazione È cambiato il modo Ok? Di vendere Diciamo così Di fare usufruire la musica Ma sono cambiati anche i numeri Ok? Quindi c'è un miliardo di vendite Non le ha mai fatte nessuno Sui supporti fisici Ok? Oggi un miliardo di streaming Ci sono arrivati a miliardi di streaming E siamo puri sei Capito? Cioè quindi se avessero venduto Dieci miliardi di dischi Uno al mondo sarebbe il proprietario Di otto pianeti Ok? Quindi vediamola così Però paradossalmente Facevano più soldi Ai tempi gli artisti Non pensiate che non si stiano facendo Perché noi facciamo questo discorso Ma quando io vado a fare a Miami E vado al Criteria Studio Per fare il disco Esempio Prendiamo che ne so Alejandro Sanz Uno spagnolo pop Ok? Che deriva dal flamenco Andiamo in studio Usiamo esattamente Lo stesso studio Dove abbiamo registrato L'almelaire Ok? Nel 2001 Lo stesso identico E in uno studio Come il Criteria Studio Costa sempre 2000 dollari al giorno Ok? E fare un album Con i produttori Con le palle Costa sempre Un botto Cioè per fare un album Di serie A Ma quelle serie A pesanti Laura Pausini Della situazione Parliamo di Italia Ok? Uno dice Ma perché serie A? Perché Laura Pausini vende Laura Pausini Non vende Chi se ne frega Se fa meno Di Blanco Ti faccio un esempio O meno di Ma chi se ne fotte? Cioè Blanco Fuori dall'Italia È una scoreggia Di una cucinella impaurita È capito? Laura Pausini Esce fuori dall'Italia Riempie gli stadi Riempie i palazzetti Dello sport E vende Vende Musica In tutto il mondo Ti è mostrato quest'anno Ancora vince premi Su premi Insomma Si presenta ai Grammy E in anella Ma vedrai mai Secondo te Vedrai mai Elodie ai Grammy Awards Vedrai mai Che ne so Marco Mengoni Forse se lo prenderai in mano Quello che allora Era Alfredo Cerruti Cioè I grandi manager Come fai a vedere Il volo che va lì Ma è tutto a merito Di Tony Renis Non è mica a merito Dei nostri Cioè Se il volo oggi Tu in Italia Vai a fare Verona È merito Di manager Che lavorano Negli Stati Uniti Quelli che Il problema Che oggi Dado Parisini Celso Valli E tutti questi produttori storici Che potevano fare differenza Se ne fottono Prendono la barca vera Non vogliono più fare niente Perché? Perché ci non vado in studio A rompermi le palle Con un artista Che mi sclera Dalla mattina alla sera Che fa il fenomeno Che non capisce un cacchio E devo star là A sopportare Sto qui Che mi rompe le palle Pensa di sapere tutto Non sa niente Per quanto? Per 5.000 10.000 Non ci sto Perché per tre mesi di lavoro Dove lavori 20 ore al giorno Per fare il disco Che venderà in tutto il mondo Voglio 300.000 euro 150.000 Posso scendere a 100.000 Questo è il ragionamento Capito? Perché loro Fanno il problema Delle royalties Delle royalties Andate in anticipo Perché quando ti danno Delle royalties Danno che ne so 300.000 euro Ti dicono Adesso ti occupi di tutto E ovviamente tu vai a risparmio Invece se le dichiettano Arrivo qui però Arrivo qui Attenzione a confondere una cosa Che quando eravamo lì A Berkeley Ci insegnavano Perché qui mancano Le scuole di formazioni Sul marketing E il management Artistico Sono aziende Quindi come tutte le aziende Hanno delle entrate E devono avere delle uscite Attenzione a questa cosa Che ti dico Perché quel giochino Si fa più intenso Cioè tu azienda Produci qualcosa Che ti costa mille Ok Ti fa ricavare 10.000 Quei 9.000 Ci devi pagare delle tasse Giusto? Si Allora cosa fai? Tu aziendalmente Devi chiudere in pari Quindi cosa fai? Vai a fare 10, 20, 30 Produzioni Di cui non te ne fotte niente Che vendano Non te ne fotte niente Devi scaricare le tasse Capito? Però poi l'artista Però c'ha un contratto Con opzione per 5 anni Che ti deve comunque Ridare quelle royalties Cioè ti deve vendere quello E questa è la trappola mortale Capito? Certo La trappola è lì Allora poi esistono anche Le writing session Quindi dove chiamo Gli stessi autori Gli stessi inciuci Le stesse Faccio Crea una lobby Che mi permetta Di fare sto giochino Ok Questo giochino del cacchio E fottere tutti quanti Capito? Ci vuole poco Però Perché nessuno ragiona Sull'azienda Quindi Quando invece c'era un capo artistico E un capo produttore esecutivo Le cose erano diverse Capito? Erano molto diverse Perché in quel caso C'era quello che andava a portare il progetto Ma dice Oh però investiamoci E andavano a cercare qualcuno Come i DJ di una volta Cioè quando io ti ho parlato all'inizio di editoria È perché la gente non ha capito Cacchio di un sacco di cose Pensi che in radio Vada qualcosa Che la radio ha scoperto E ti vuol produrre No Nelle 30 radio Il music control Funziona così Qui mi arriverà una mega querela Ma fottessero Ma bisogna dirle queste cose Queste non cambieranno mai E bisogna dire la verità Andate a chiedere a un DJ Andate a chiedere Marco Mazzoli Il mio amico Andate a chiedere A loro se possono mettere Dei brani Che non sono nella playlist interna Che il direttore di produzione Del programma Ha inserito Ma col cacchio Cioè se tu provi DJ a mettere un brano Che ti va di passare in quel momento Litighi col direttore di produzione Una, due, tre, quattro La quinta Sei fuori Perché ti fai i cacchi tuoi Perché c'è una direzione di produzione? Perché sono tutti d'accordo Se oggi bisogna spingere Ritorna adesso Che ne so Parliamo di Mahmoud Ok Esempio Così non c'è Non penso che sia Adesso mi ricordo La lista di Sanremo di quest'anno Però non credo ci sia lui Quindi Bisogna spingere Mahmoud Ok Benissimo Infatti l'esempio che va preso Perché se no sembra Che chiamiamo qualcuno Nessun rischio Prendiamo Mahmoud Dobbiamo spingerlo Ok L'editoria è d'accordo E quindi cosa devono fare? Lo spinge più RTL Lo spinge più questo Lo spinge più quell'altro Però gli altri devono passarlo Perché? Tu dici Ma io sono Mahmoud Sto Alla Sony Ok La Sony Ha questi altri Dieci artisti In lista Per le radio È uno scambio No? Mi dai Mi dai Un Mahmoud Io ti do un ferro Tu mi dai un pausini Io ti do Cioè è questo Uguale coi featuring E Uguale questo Quando vuoi dei featuring Fra gli artisti Sono sempre uno Che deve trainarne Un altro Viceversa Un po' Un ritorno Ma quindi Benevergente è molto difficile Inserirsi in un sistema chiuso È molto difficile Ti devi inserire In quel sistema lì Devi fare quelle amicizie là Mi sembra di capire Che sia Mirror proprio Pure talent È l'unica via Paura E poi dove andiamo ancora più Nella merda La merda totale È che come ti dicevo prima Sembra un giochino Che ci hanno messo Sotto agli occhi Per anni Piano piano Sai come si fa No? Cioè Ti faccio credere Che quella cosa lì Vediamo come reagisci Se ti dico che la menta È in realtà Non è verde Il colore del ghiacciolo La menta Ma è Viola Ok E ti faccio mangiare Una menta viola Senti com'è buona Ma senti che è buona La menta viola Invece perché Quella c'è il colorante E questo no In realtà è verde Io pian piano ti convinco Che il ghiacciolo Viola la menta Che è un po' Sa un po' di menta Ma sa un po' di cacca Ok Io ti convinco piano piano Che la miglior menta È quella viola Non quella verde Che hai sempre mangiato E che coltivi tu Nel tuo giardino E tu dici Ma che cacchio Io la menta viola Non ce l'ho Sono sfigato E capite Quindi devi entrare Nel mondo della menta viola E questo entra pure La stampa di settore Che secondo me È un altro elemento fondamentale Che fin adesso Non abbiamo citato Perché la stampa di settore Ovviamente se prende Una doppia pagina Di un giornale Top Che parla di musica E ti dice Oh Questo gruppo Questo artista Che sta a totale Trasmissione Tale talent È un fenomeno Sarà il futuro Dei prossimi dieci anni Di musica italiana Ovviamente il pubblico generalista Prende quell'informazione L'assimila Diventa Una verità Se poi Ha la conferma Il bias de conferma Che poi lo sente in radio Ogni 20 secondi Quando va al supermercato Diventa realtà E non puoi Controvertire questa cosa La prova micidiale Che hanno fatto Di manipolazione generale In cui siamo caduti Tutti quanti Io no Perché non Ma non perché non Certo Semplicemente perché Non mi piace Però Scusa Ma pochi giorni fa C'è stata una dimostrazione Classica E questo è per far capire Che abbiamo Dei problemi seri Noi italiani Ma dei problemi grossi Seri Siamo diventati Così facili da manipolare C'è stata questa iniziativa Di McDonald's Che ha fatto Cos'era 3 euro Ma ragazzi Ma Cioè siamo nel paese Parlavamo prima Che cos'è Questa promozione Hanno fatto una promozione Hanno messo il menù Del Crispy McBacon A 3 euro Invece che 7 E qualcosa Adesso direi Ma dove ero io Quella sera Non so Simone Dove sei perso Purtroppo Però io c'ero Ok C'era 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 C'è Hanno fatto foto E cose pazzesche In tutta Italia Dove c'erano code Incredibili Per andare A prendersi Il McDonald's A 3 euro Ma io domanda Ti faccio Ma secondo te Se fosse La carne chianina O l'angus argentino Fatto a tartare E messo dentro Quel panino Secondo te L'avrebbero messo A 3 euro No Giusto È buono Io ho un ordemmerito È buono Certo che è buono Cioè il Crispy È diventato quasi Una religione Quasi azietta Secondo me C'ha dentro Delle cose Che ti rendono Dipendente E io voglio Voglio esserlo Ci sta Vedi che tu dici Però non è Tu dici che è buono Ma se dovessimo andare a vedere Realmente Come è preparato Qual è il tipo di carne Non è buono Non lo potremmo trovare buono Perché per arrivare Sei un po' in denial Dave forse No 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 Non lo accetti No Fida che è fatto Ovviamente Non è Lascia stare quello che ti piace È quello che arriviamo È qui che arriviamo Esatto Cioè È il discorso Del farti Di ingolosire Su un qualcosa E ti convinco Che Vedi la menta viola Dov'è Il nostro gusto Anche musicale Artistico E anche culinario È addomesticato Ovviamente Da Da quello che ci viene propinato E ci viene dato come il top Da quello che vogliono Che compriamo Forse credo Senti Io ti svelo una cosa Allora Io l'ho mandato a Simone Nella mia presentazione Ci sono documenti Io sono tra Autore Realizzatore La voce Di tantissimi spot pubblicitari Gingo pubblicitari Tra i più famosi Coca-Cola Sprite Fanta Tutti quelli Guarda C'è una lunga serie Ringo Brooklyn E quant'altro Quando veniva commissionato Allora Il lavoro Noi avevamo delle parole In cui tu dovevi Parole Si venivano chiamate Parole ipnotiche Ok Che dovevamo Dovevamo inserire nel testo Per la vendita del prodotto La musica È studiata Da sempre Guarda Io ho fatto Un lavoro Pazzesco Sulle frequenze Perché ci abbiamo studiato Sulla comunicazione Quando tu studi Anche le musiche Da film Ok Per realizzare Musiche da film Quindi il soundtrack E quant'altro Quindi come fai A raccontare un film Con la musica Senza le immagini Devi rievocare Delle immagini Devi rievocare Delle sensazioni Le frequenze Della musica Sono il più grande Veicolo Ok Emozionale Che esista Al mondo Quindi io Con la musica Dovevo convincere La signora O ragazzino Andare a comprare La brioche Della kinder Che è un po' come Lavorare per il diavolo Bravo Quanto ti rendi conto Sta roba qui E quanto la musica Diventa potente Da quel punto di vista Con delle cose Guardi io quando Scrivevo delle pubblicità Magari scrivevo Delle cose belle E mi venivano bocciate Sai quante volte Dici Vabbè dai ho capito Devo scrivere questa cagata qua Gliela suonavo lì così Capito La cagata Gliela suonavo lì Mi diceva Bello Questo funziona E tu dici Cazzo non è possibile E c'è una ragione E poi Impari sto meccanismo Quindi cosa succede Che Se io devo far pensare A che ne so Ringo Pipo Oddio la sua Lo sapevo Lo sapevo Che ha troppo soul Per essere una roba Cadenza plagale 4-1 Scusate Eh certo Perché qui ti preparo Il gospel Cosa succede Capito Eh certo E lì ti parlo Ringo Pipo E tu già Sei predisposto Dio che è che mi dai Poi ti do da mangiare Un biscotto Viene anche chiamata La cadenza amen Questa Credo O è la idea Dove stai a vendere I biscotti Cioè stanno soltanto Due possibilità Ebbene quando pensi La 4-1 Era sempre come Sensazione Unica Che era la Coca Cola Hai capito Cioè quindi Al cadroia Ne ho fatti 19 Da Far pensare Alle persone Hai capito Di Di prendere Quando ti dico Didattica E cambiare i timbri Ma ne ho fatti Di timbri Che non c'entravano niente Quando ho dovuto fare L'imitazione di Tom Waits O fare Bobby McFerrin In Don't Worry Drive Happy Cioè capito Quelle cazzate Che dice Che rimangono Prendi Bobby McFerrin Per dire Don't Worry Drive Happy Ma le frasi Le parole Il modo in cui tu le dici La musica che usi Per comunicare È una manipolazione Costante E continua Ma quindi tipo People È una parola Ipnotica Perché Ringo People Che ne so Certo People sempre Associato a qualcosa Cioè Tu devi Se devi parlare Della massa È chiaro che Ringo People Cioè Il popolo di Ringo Hai capito Cioè se tu dici Che ne so Pepsi People Hai capito Cioè Quindi Crei Sì tipo La gang Della Pepsi Insomma Che siamo Tipo una tribù Sono meccanismi Anche tribali Dell'essere umano L'identificazione Nel prodotto Come Poi devi pensare Che il prodotto Ti faccio un esempio Creiamo un jingle In questo momento In tre secondi E lo pensiamo Abbiamo detto Poi magari Se ce lo prendono La Pepsi Dividiamo Anche con gli spettatori Dividiamo Le royalty Ma se pensi Alla Pepsi No Tu cosa pensi Pepsi Che a differenza Della Coca Cola C'è Pepsi Oh yeah Tipo Don minore Capito Don don Pensi a un rock Giusto Sì Ok Però se lo penso In minore È qualcosa di negativo Allora devo creare Un rock and roll Capito Che ne so E fai colpire Pepsi People Turn around All of me Wish I could be Coca Cola Bellissimo Stupendo Capito Allora Fa una roba Velocissima Così la gente Cacchio E c'è l'immagine Che apri la lattina Bevi Esce fuori Capito La Pepsi Con le bolle Che ti avvolgono Avvolgono il gruppo Che balla rock and roll Queste cagate qua Hai capito Funzionano di brutto Capisci Ma funzionano di brutto Io ho fatto Un anno Di musica Per film Al St. Louis Quando avevo 19 anni E mi hanno fatto Anche fare Musicare Delle pubblicità Quindi Ovviamente I primi passi Però era Era interessante Quando fai conto Abbiamo fatto La pubblicità Della Barilla Dove c'è casa Ti ricordi Questo Sped Dove c'è Barilla No Com'era? No Dove c'è Barilla C'è casa Era mulino bianco La prima mulino bianco Pure casa È una parola ipnotica Ovviamente Dove c'era Come si chiama Molecone No? Egnon Questa roba qui Ecco qui Ecco qui La fragranza dei galletti Mulino bianco Ti riporta Al calore Della famiglia Bella Questa cosa Perché ovviamente Il pubblicitario Quello che deve vendere Sa L'effetto emotivo Della musica Quanto ti può far Affezionare Anche Ad un qualcosa E viene usato Per vendere Due fusilli Quello che inconsciamente Fanno anche Più o meno Inconsciamente Dipende poi dal livello Di consapevolezza D'esperienza Fanno anche gli artisti Quando scrivono musica Originale per loro stessi Perché Chi deve musicare Un film Una pubblicità Va là Già diretto Per sapere Ok Devo provocare Quest'emozione Devo rendere musica Questo momento Che vedi a schermo Anche in una canzone Tu fai lo stesso Devi comunque Evocare delle sensazioni Poi le evochi Inconsapevolmente Insomma Dipende se magari Ti nasce Dalle emozioni Oppure se tu Decidi già Di farla Tipo ora faccio Una canzone arrabbiata E lo decidi Oppure secondo me C'è anche quella volta In cui ti esce Semplicemente Una canzone Arrabbiata Ma non l'hai deciso Non so come dire E per questo che Tu dici sempre Che è importante Almeno i rudimenti Dalla teoria E io dico sempre Che è importante Il knowledge Aver ascoltato Tantissime cose Perché altrimenti Tu hai Provi delle emozioni Che non sai Neanche come tradurle Se non hai Delle armi A disposizione Aiuta secondo me Poi te la devi Scordare La teoria Perché se no Inizi troppo A pensare Secondo me Nel processo Devi avere Dei colori Per dipingere Perché se non hai La tavolozza Puoi anche pensare Nella tua testa All'opera migliore Del mondo Ma poi non la puoi Tradurre In nessun modo Rimane un'idea Magari incompiuta A vita Sono d'accordo Sono È tutto giusto Capito Nel senso che È tutto giusto Quello che stai dicendo Quindi l'ascolto È molto importante E non avviene più Questo nei ragazzi Della nuova generazione La generazione Z È povera di ascolto Capito Il confronto Con chi si confronta Una generazione Z Con della gente Che gli rompe le pale Non è che Della gente Che gli fa vedere Che esiste un cioccolato Oltre la cacca Capito Cioè E dice Guarda È la cosa che abbiamo detto prima Hanno convinto Talmente ormai tutti Ci sono voluti Dieci anni Gli ultimi dieci anni In Italia Per trasformare Il cioccolato Cioè Non per trasformare Per far spazio Togliendo pian piano Il vero cioccolato Con la cacca E convincendo le persone Che la cacca Cioè È un cioccolato Più buono Del cioccolato Oggi quindi Dover riprendere Il cioccolato E fargli vedere Hai capito Sta cosa qui Che la cacca È cacca Ed era meglio Non mangiarla È un lavoro Impensabile Quasi per molti Ci vogliono Degli appassionati Ci vogliono Di nuovo Dei punti di rottura Ci vogliono Di nuovo Delle persone Che vogliono Rischiare Ok Anche di essere Bandite Totalmente Ma non mollare E ricordando Hai capito Che cos'è Magari facendo Riprovare Delle sensazioni E parlando Di modernità Perché il problema Che si rischia Anche questo Quando io faccio Questi discorsi Ti danno del boomer Ti danno E capito Ah siamo nel 2023 E io poi dove sputtano Ragazzino Io insegno Tutti i giorni Ho persone di 15 16 anni Non prima dei 15 16 anni Ma è anche persone Di 50 Ci siamo Però Io lavoro Con i ragazzini Ma il problema È che non lavoro Solo in questo paese Insegno anche Fuori dall'Italia E lavoro online Con la Germania Con la Francia Con l'Eghilterra Con l'America Con il Canada E capito Con tutto E cosa succede? La nostra musica Fa cagare in tutto il mondo Cioè questo è un problema La musica mainstream Dici perché Mi stanno venendo in mente Comunque anche Magari cantautori Non famosissimi Che però fanno Ottima musica Che però Magari non se li incula Nessuno Tra tante virgolette Capito? Esatto Ma tra l'altro Sono quei cantautori Che se per caso Poi vanno a fare Un festival particolare In Francia In Inghilterra In Scozia A Malta Ok? A Malta Cioè questi qua Vengono Prima hai detto Madonna che roba pazzesca Emozionali Emozionanti C'è un sottobosco Che andrebbe portato In luce Questo sottobosco italiano Perché è lì Che c'è la vera musica Non quella che Noi stiamo ascoltando Ma ce n'è tante in giro Ragazzi Ma tanta E c'è anche tanta gente Che canta Che vi dico questa roba Che fa un po' pensare Bisogna pensare Che quello che viene Idolatrato Oggi Nei talent Italiani Come Amici X Factor Il più bravo Là dentro È una pena sufficiente Nel gergo musicale Il più bravo È una pena sufficiente Basta vedere I talent Che ci sono fuori all'estero Andare a ascoltare Un attimino E vedremo come la cosa La cosa schifosa E vergognosa È che se tu giri Vai anche nei locali C'è gente Musicisti Cantanti Strumentisti Compositori Che sono A un livello Pazzesco Che potrebbero Essere presi E preparati Poi dai docenti Quelli Di alta formazione Che purtroppo In Italia Ce ne sono pochi Ok Ma quei pochi Possono portarti A fare quello switch Per poter dire Adesso puoi andare fuori Anche Capito Con la tua musica E ti assicuro E vi assicuro Che ne ho ascoltati Ne ascolto Ce ne sono veramente Tanti Tutti ormai Che sono decisi A mollare la musica A cambiare Tanto Si sentono Dei mongoloidi Scusa Non si può dire Dei deficienti Si sentono Delle persone Che non si sa Perché Abbiano fatto Questa cosa I genitori Che si smontano Perché quando Poi trovano Veramente Il talento In casa Quello forte Quello figo Che dici Cavolo Cosa qui Ragazzi E' uno potente C'è veramente Uno che fa le differenze Cioè Sono costretti Ad abbandonare tutto Poi li convincono Poi capitano Nelle mani Di quei pseudo Produttori Che gli dico Ah ci penso io Vieni Ti faccio io Ti faccio io Il Come dire Il prodotto Ti faccio fare Il singolo Poi Lo mettiamo Su Una playlist Poi vediamo Questo e l'altro Facciamo le sincronizzazioni Si pigliano tutte Edizioni Quello e quant'altro Si pigliano pure I soldi Hai capito E tu hai speso Cinque Diecimila Quindicimila euro Che magari Hai fatto il finanziamento E tutto Per me Guarda Il problema principale Che ascolto In radio Generalmente E' proprio Le produzioni Plasticose Che ormai Vanno in giro Cioè io Per me Ma per mio gusto Mi piacerebbe Magari un ritorno Come hai detto anche tu Alla musica Analogica Un po' Alle band Alla musica suonata Perché Quella musica Che va in sala prove E sudi Con i tuoi Compari Non Ovviamente Tutta quella concezione Di pop star Perché Se io penso Ad un Elodie Immagino Che ne so Tipo il documentario Che ha fatto lei Dove fa mille Lezioni di ballo Che si prepara Al suo grande spettacolo Pirotecnico Poi c'è anche La musica dal vivo Però Non è il centro Quindi Non c'è più fermento Credo Per un cantautore Per gli arrangiamenti Che porta Non gliene frega più niente A nessuno Noto questo E' un lato della medaglia Ovviamente Spesso lavorare A una produzione Può essere anche Quasi come lavorare Con una band Perché quando tu trovi Un team Anche se sei un artista Solista Ti trovi un gruppo Di lavoro Con cui ti trovi Molto bene E che Sono persone poi Disposte a perdere tempo Con te A No perdere Utilizzare tempo Nella creazione Di qualcosa Che poi sia soddisfacente Per tutti E alla fine Il lavoro è come Lavorare con una band Anche per una pop star Sì Dipende sempre Qual è Ma si sente Cioè tipo A volte che ne so Sento una pop star Che ha una produzione Della madonna Che dico wow Cioè questo Che poi Significa Semplicemente Che suona bene Altre cose Tipo che ne so Mi viene in mente Arcomi Che ne so Delle cose Super plasticose Che erano fatte su Logic In due sessioni Capito Alcune sono fatte così E questa è la differenza Poi dei lavori Fatti all'estero Rispetto a qui in Italia Purtroppo In Italia Abbiamo il vizio Di fare produzioni Quasi da un studio E poi semplicemente Le mandiamo a fare i master Dal buon Luca E tutto suona Esatto Però tutto suona uguale La cosa assurda Qual è poi Agli stessi suoni Poi Tornano in più canzoni Scusami Luca Certo No è vero Bramma di Splice Ne vogliamo parlare Guarda Una roba pazzesca Pensiamo solo a questa cosa Quando tu Vai a vedere Le classifiche In Inghilterra Le classifiche americane E statunitensi Ok Qualsiasi tipo di classifica Che sia fuori Dall'Italia Non è che lì non ci sia La musica rap O la musica trap Che è un genere musicale Non una stile Una cifra stilistica Queste frasi del cazzo Che servono come vendere Capito Oh adesso Ti vendo la Coca Cola Però ti vendo la Ramping Cola Hai capito E la faccio diventare La nuova moda Sono frasi anche queste La cifra stilistica È diventata anche quella Una parola ipnotica Poi se andiamo a vedere Che cosa significa Cifra stilistica Non c'entra niente Con quello di cui si parla Perché qui Siamo in Italia E noi pensiamo che Lo stile Sia un genere Invece il genere musicale Lo stile Ha solo a che fare Con il personale Noi abbiamo un vocabolario Molto più ampio Di quello inglese Lo style Racchiude sia il genere Che lo stile Perché non hanno Un'altra parola Ok Però detto questo Giusto parli di stilema Magari Più che di stile Esatto Quindi allora Possiamo dire questa cosa Che La musica trap La musica rap È un genere Molto importante Perché mette in luce Attraverso l'uso della musica Attraverso dei riff Che vengono ripetuti A livello ritmico A livello musicale Degli stati di disagio Particolari Che devono essere Messe in luce Da Il pubblico Più disagiato All'arrivare Alle altre sfere E viene fatto però Con creatività Molto importante Cioè Non posso pensare Noi dobbiamo dire Chi è il nostro Eminem Chi è il nostro Fifty Cent Giovanotto Quando puoi sentire Capito Capito che Quando poi Parliamo di uno Che quando tu senti Eminem Non senti un respiro Neanche quando senti Hai capito Quando No fabbri fibra Vabbè Volete dagli aste clip Produttore Volete tagliare queste clip Maledizione Volete fai crossfade Maledizione Capito Ma non è solo crossfade Che quelli lo fanno anche dal vivo Senza farlo Hai capito No la voglia Voglia Quelli sono bravi A reppare Porca vacca Io nel 1987 Quando stavo a Boston Giravo Ed era 82 Che stavi a New York Nelle zone più assurde Prima è partito Dai quartieri C'era gente Che rappava per strada Con le basi Rubate da Herbie Hancock Rimesse Dal jazz Portate all'interno Del beat Cioè Ragazzi Era una roba pazzesca Cioè Io morivo Facevo da ragazzino Io facevo Mi ero appassionato Alla breakdance Arrivavo dal jazz Ma stavo Ero dentro In fissa Con la breakdance Per intenderci Mi piaceva fare il tamarro A fare la breakdance Capito Però E ascoltavo quello Allo stesso tempo Ascoltavo Beethoven Allo stesso tempo Ascoltavo il jazz Di tutti i più grandi Da Tartum Da tutti questi qui Ma Il mio Il mio punto Che può sembrare Ad alcuni Legato al passato In realtà Sono sempre attaccato Al futuro Perché io sono stato Abituato in quegli studi A studiare la musica Proiettandomi Nel prossimo futuro E nel futuro A lungo termine Quindi quando io vedo Un'Italia che fa La trap e la rap Di dieci anni fa Del mondo Siamo ridicoli Cioè non possiamo Sentirci dire Siamo nel 2023 E quello che produciamo noi Non lo facevano Neanche dieci anni fa Negli altri Negli altri Negli altri paesi Siamo indietro ragazzi La verità è che Noi siamo molto indietro E pensiamo di essere avanti Hanno visto Ultimamente nessuno Se ne rende conto Però era come una volta Il Gaviscon Che era Dovevi andare dal dottore A fartelo prescrivere Oggi è diventato Un medicinale da banco Oggi ti arrivano Le promozioni Su Instagram Su Facebook Dell'autotune Che cosa vuol dire Che l'Antares Che fuori da qui La vende Per pochi Hai capito L'Antares Italia Sta facendo i miliardi L'Antares Se ci pensi Mi compri una pollo E tu lo regalano Hanno fatto l'applicazione Per l'iPhone Hai capito Cioè hanno fatto L'applicazione Dove tu cominci a cantare È una roba Allucinante Ma sarà che vogliamo Sempre fare Una pallida Imitazione Degli americani E ci abbiamo paura A sperimentare Ci hai preso La nostra È un'imitazione Perché ci manca L'attitudine E quello Che gli americani Chiamano roots Le radici Io ci ho pensato Oggi perché ho sentito Stamattina L'ultimo singolo De Beyoncé Aiuto Ma è una roba Impressionante Cioè lei Tu la conosci Per le dotiche Anore Assurde Questa ha fatto un singolo E rappa soltanto Ti spacca in due Quelle sono le roots Quella è diciamo La conoscenza Bravissimo Parliamo di come Rappa Beyoncé Avanti Cioè Se mangia mezza scena mondiale Hai capito Cioè quando Io Quando uno dice Ma tu Rap rap Ma voi non sapete Io quando Mi cominciano ad assalirmi Dico guarda Quando dovete parlare Con me di rap E lo capisco Che uno pensa Che io Mi vede me E dice Se è attaccato Già usano il bel canto Che è un termine Che non c'entra una mazza Il bel canto È il sinonimo Di canto lirico Quindi non è il canto moderno Il bel canto È il canto lirico Il canto moderno Si chiama canto moderno Ma io arrivo Dalla scuola dell'R&B Dalle scuole del jazz Dell'R&B Ma il jazz È contemporaneo Non è quando Noi siamo abituati a pensare Al jazz Come qualcosa di vecchio Ma ragazzi Ma fuori da questo paese Il jazz è una cosa Che è futuristica Cioè Chi è che ha fatto La breakdance Chi è che ha fatto Le prime basi Con Rocket Chi l'ha scritto? Uno dei più grandi jazzisti Al mondo Che si chiama Herbie Hancock Cioè Non è che l'ha scritto Non lo so Il primo pazzo Le prime produzioni Che faceva Mustì Capito Erano produzioni Pazzesche Prendeva Al CUNY Williams Prendeva Tutta questa gente Facendo delle produzioni Micidiali Se voi andate a sentire Stevie Wonder In So What The Fuss Come rappa lì E rappa e canta In quel brano In So What The Fuss Del 2005 Penso che sia Adesso mi ricordo più L'album Però Cioè State male Cioè Come Stevie Wonder E tu vai a sentirlo Vai a sentirlo lì Cioè Fa delle cose Ritmicamente A un flow Una roba Che tu dici Ma no Aspetta un attimo C'è qualcosa che Ma questo è Stevie Wonder Sì E fa un Culo Hai capito 800 persone Quindi vuol dire Ad esempio per noi in Italia Il discorso R&B Io non ho mai capito Perché proprio Non siamo proprio riusciti Ad inserirci Nel contesto Cioè Hai fatto caso Che non c'è mai stato Un artista Veramente R&B Forse L'unico Che riesce a essere solo R&B In maniera genuina È uno che poi Non ha avuto neanche Tutto il riscontro Che è Davide Shorty Lui è veramente Molto bravo Però c'è un problema Che Davide Shorty Ok Nel confronto Dell'R&B Fuori Non è niente È un sufficiente Sai perché? Perché Intanto Noi facciamo Un R&B Sempre Capito Che è un Vorrei ma non posso Già questo discorso Già questo discorso Che abbiamo un problema Così In più Il linguaggio Noi Lo dico sempre Anche a tutti Noi studiamo Noi cresciamo Con una scala Che si chiama Diatonica La scala maggiore Diatonica Già parlare di scala minore Cazzo è troppo difficile No come? C'è anche la scala minore Sì Ma sai Le minori sono tre Come sono tre? No aspetta No basta Sono già stanco Ma infatti Io volevo dire questo Che in Italia Mi sembra pure No ma forse anche Nel mondo Che il rapper Per qualche strana ragione Debba comunque Anche essere ignorante Di teoria musicale Quando in realtà Può solo che aiutarlo Credo Il problema è che Anche in America Ci stanno dei rapper Che sono ignoranti Di teoria musicale Ma là L'attitudine Che respiri Con gli ascolti Che hai fatto Fin da bambino Dentro casa Quelle radici che hai Sono talmente Ti permiano Permiano talmente tanto Che neanche C'hai bisogno Lo capisci Già lo sai Sì Però non tutta la musica Io a volte sento Magari da rapper Che sanno la musica Ma è delle figure Ritmiche interessanti Che non ho mai sentito Magari da rapper Un po' più così Terra terra Lì mi piace Dove c'è anche Uno studio ritmico Ma magari Alcuni rapper Sono semplicemente Istintivi Neanche ci pensano A le figure Che stanno Il problema è che Quando io Ho citato prima Criteria Studio Ma io la prima volta Che ho fatto Lì Sono stato nel Criteria Nel novantasette La prima volta Nel novantasette Nel novantasette Non mi ricordo più L'inizio di Tupac Capito Quindi c'è proprio Quella roba lì Un album Con dei suoni Che stavano sfondando I muri Dello studio Io sono entrato dentro A parte che sono entrato Perché mi hanno fatto entrare Perché ero di là Perché sennò Con il cacchio che entri Ok Ti sparano a vista E lì si sparavano Su serio Ma studiavano Sapete che sul suono Di cassa Un suono di cassa Cioè ci passavano Uno due giorni In studio Per trovare La cassa Che avevano solo In quel disco E che non l'avrebbe avuta Quell'altro E che non l'avrebbe avuta Quest'altro Quando tu invece Oggi E questo succede Tutt'oggi Dopo 30 anni Vai al criteria studio E c'è la stessa Identica ricerca Stessa identica cosa Capito? Un utilizzo geniale Che si faceva dei campioni Ai tempi Veramente virtuoso Veramente alto Artisticamente Adesso Diciamo il mercato Delle interpolazioni Da adesso È semplicemente Presetto Cioè come si può dire Eh ma no Si fa anche Utilizzo dei campioni Ma spesso sono cose Concordate Con l'etichetta Oppure col proprietario Del Del catalogo Uso questo suono Così tu ti prendi Una parte Delle edizioni Così riutilizziamo Questo suono Che era storico Non c'è curiosità Capito? Non c'è sperimentazione C'è solo Favoritismo La cosa figa Sai cos'era? Vedere questi qui Perché poi Quando noi Studiavamo Poi tutta la performance D'arrangiamento Che si studiava lì Ti facevano vedere All'inizio Come si facevano I primi Sample Ok? Quindi Le prime Che si usavano Nei dischi Cioè tu dicevi Chiamo il batterista La cosa assurda È quella che tu Chiamavi il batterista Avevi in mente Un ritmo Lo scrivevi Poi dicevi Ok sta un po' più indietro Qua un po' più indietro Là Perfetto Registravi due Tre misure E tre misure Di quella roba lì Mandavi a casa Il batterista Grazie Poi tu Lo processavi Sui primi Sistemi Hai capito Di computer Ancora E Lo ripetevi Con quel gradino Hai capito Che era quello Che si trasformava Poi in backbeat Hai capito Cioè quindi Tutto quello Che era Il primo Momento Di trasformazione Ma si è sempre fatto Con i musicisti veri Cioè se tu vai a prendere Di Angelo In un album Meraviglioso Dove c'è un video Dove lui suona Tutti gli strumenti Pian piano E senti Tanto è un vero Polistrumentista Non che il primo Che prende una chitarra Fa tre accordi In tv E capito Fa Che ne so Le tagliatelle Capito Col pianoforte Cazzo come sono i pianoforti E poi faccio Con l'autotune Poi prendo il basso Faccio due note Sono un polistrumentista Capito Cioè Quella è gente vera Ma è gente Che ha inventato L'R&B Noi abbiamo parlato Di R&B Ma non abbiamo Nella nostra testa La scala pentatonica E già questo è un gap Per noi Perché quando noi Componiamo Componiamo in maniera Sbagliata Non componiamo Basandoci Sulla pentatonica Noi Cioè Ci basiamo Sulla scala Questa Non Non su questa Quindi per noi Il fill Che sarebbe Il che ne so Questo è il nostro fill Per loro è Quindi se fai Che ne so Va in un altro mondo Capito Per me È paragonabile Anche alle lingue diverse Che parliamo Proprio come esseri umani Pure questo Sono dei linguaggi diversi Io sono molto affezionato Alla diatonicità Mi piace il romanticismo La melodia Sarà che proprio Per radici mie Cioè in realtà Mi piace molto Questo tipo di approccio Infatti tipo Mi piacciono pure I gruppi rock Che Infondono Di Di neoclassicismo Tipo i queen Ma è giusto anche questo È giusto quello che dici Infatti Prima dicevi Il cantautorato Italiano In realtà È Intanto Una cosa Solo nostra Che è nata Sul nostro suolo Che ha fuso La nostra poesia Alla nostra tradizione Comunque Melodica E ha creato Un genere Tutto suo Che comunque È di tutto Ritegno Secondo me riguardo La trap È qui che l'Italia Ha un pochino Sbagliato il tiro E poi ovviamente Una volta che tu sbagli De un grado La coordinata La continui per anni Poi finisci In un altro universo È cosa che non ha sbagliato Per esempio La trap E il rap francese Che hanno delle radici proprie E hanno ormai Un'identità propria L'Italia invece Ha provato A fare O il rap francese O il rap americano E ovviamente Avendo radici Talmente diverse È facile Essere posticci Hai detto Una cosa fantastica Cioè infatti Questo è un esempio Un gruppo Che si chiama Ben L'Uncle Soul Ha fatto Un brano Che è spopolato In tutto il mondo Che si chiama Soul Man Ok Che è nato in inglese Cioè è nato in francese Nei locali francesi Dove suonavano Questa band pazzesca Che era un soul R&B Ok Lui un cantante Pazzesco Francese Meticcio Quindi di colore Capito Però Pazzesco Cantando in francese Esattamente come andrebbe cantato Cioè come va cantato L'R&B Perché è così Noi ancora in Italia Tramite A parte qualche esperimento Che aveva cominciato a fare Un grande produttore Che era Marco Rinalduzzi Quando è iniziato I primi esperimenti con Giorgia Ok Quando ha fatto E poi come saprei I grandi saremo Dove sentivi Soprannominata La Whitney Houston italiana Undici anni di lavoro Che ho fatto io Sulla voce di Alex Baroni Cioè Ho fatto undici anni Il suo maestro Per tutte le settimane E vedere un ragazzo Che non mancava una lezione Per undici anni Ti fa capire Che qualcosa c'era Capito E quindi ho dovuto Trasferire un sacco di cose Che sapeva Lì è nata la mia forma Didattica vera Da quando ho conosciuto Alex Che aveva diciotto anni Io ero diciannove circa Quindi cioè Siamo andati lì Su questa strada Ma Doverlo portare avanti Per undici anni E fargli Digerire Tutta una musicalità Lui è cresciuto Come se per undici anni Avesse mangiato E fosse rinato E rivissuto In un altro ambiente L'esperimento c'è Quindi è come dire Tu prendi un italiano In cattività E lo porti da un'altra parte E abito C'è E se gli fai fare Tarzan E lo metti in mezzo le scimmie Diventa una scimmia Se lo fai crescere Insieme ai rinoceronti Diventa un rinoceronte Se tu prendi un italiano E lo fai crescere In mezzo alla merda Cresce in mezzo alla merda Se all'italiano però Gli dai Da mangiare tutti i giorni Musica di altissimo livello E gli dai le nozioni Per imparare A fare quelle cose lì Qualsiasi italiano Diventa così Poi mi dice Ma quelli sono neri Guarda questa cosa L'ho trattata talmente Tante volte Sui miei canali Facendo sentire artisti Bianchi Che se non ti dico io Che sono bianchi Che sono bianchi Tu non ci credi Hai capito Ho fatto la scuola Jets me Jets me Jets me è questa manifestazione Che da qualche anno E quest'anno Ha fatto dei numeri pazzeschi Tu fai conto Che ci sono oltre 200 concerti In tre settimane Di jazz Che non è il jazz classico Jazz in tutte le sue forme Compreso Marcus Miller Compreso Corey Henry Compreso tutta gente E capito che In questo momento Sta facendo La musica nel mondo La musica attuale Nel mondo Ci sono stati più di 200 concerti In tre settimane Capito Quindi E' ora che si sveglino Ed è soprattutto Ora Che la gente Si renda conto I musicisti Si renda conto Che lo spazio Per il futuro C'è Bisogna capire Dov'è 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 E anche accettare Che non c'è In certi punti E snobbarli Perché se poi Gli snobbi E i talenti veri Vanno da un'altra parte Comincia a crearsi Un mondo alternativo Finché non lo Finché non lo si crea Finché non lo si vuole Però un mondo alternativo E finché non si dice alle persone Che esiste un'altra musica Che esiste un mondo alternativo E soprattutto Esistono quelli Che possono farlo La gente Non lo cambierà mai Che ne pensi Mi è venuto in mente Così domanda al volo Del cantautore Che non ha una grande voce Ma magari Il suo valore Sta in altro Il genere Il genere musicale Del cantautorato Che tra l'altro È singer and songwriter Ma che Negli anni 70 È nato in Italia Ha portato alla luce Dei talenti Di scrittura Principalmente Perché il cantautore Si è trovato a cantare Cioè uno dei primi cantautori Che abbiamo avuto noi Che è diventato cantautore È stato Domenico Modugno Che si è trovato A dover interpretare Un suo brano A Sanremo Perché nessuno Voleva cantare Un suo brano Doveva cantarlo Claudio Viglietto Noi sta canzoncina Non la canto Quello non la canto Quello non la canto Quello non la canto Ormai la canzone Era arrivata a Sanremo E Gmonchi la canta E Gianni Rivera Quella volta gli ha detto Gianni Ravera Scusatemi Gli ha detto Rivera il calciatore Gianni Ravera gli ha detto È bello mio Allora in quel caso È venuto fuori Modugno Modugno con la sua capacità Interpretativa Oh ha vinto il festival Ok Quindi voglio dire Ma se tu mi chiedi Hai fatto bene Fammi anche questa domanda Perché poi si pensa Che uno come me Non caghi Che magari guardi Solo la tecnica Guardi solo la cosa La perfezione tecnica Assolutamente no Assolutamente no Io ho fatto dischi di tutto Compreso anche quelli di Voglio dire Ho fatto dei dischi Che ogni tanto mi chiedo Perché li ho fatti Ma li ho fatti Quindi però Fai conto che Se io sento Una canzone per te Di Vasco Rossi Sono ancora qui a chiedermi Tutt'oggi E mi ho visto Chi è che può cantare Le canzoni di Vasco Nessuno Ogni volta che sento qualcuno Che canta la canzone di Vasco Fa cagare Cioè la sento cantata da Vasco Che è cantata male Stolta Eh Vasco Soprattutto se l'hai già sentita Guarda perché non puoi più Ascoltare la sentita da un altro No Poi lì non puoi più Quindi cioè io quando sento De Gregori Che è Hai capito Allora o lo canti Allora c'è tutto uno studio dietro Dove devi limitare la tecnica Ma devi usarla Ok E quindi anche per cercare di capire Che se ti devi fermare Che ne so Generale Dietro la collina Lì devi studiare Teatralità vocale Quindi devi andare a studiare La recitazione Per poter essere Uno che interpreta veramente Come si faceva una volta Capito? Perché non è che fai Generale Dietro la collina No 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 fa cagare Se fa una cosa del genere Esatto In Italia c'è anche Questo brutto vizio Per alcuni interpreti Di essere schiavi Magari della tecnica E vederla come unico modo Per autodeterminarsi E quindi c'è il problema Dell'oversinging Che è incredibile In Italia Siamo pieni di oversingatori Folli Di gente che mettono Così tanto patos tecnico Non è patos Che poi vogliono strafare Il discorso è sempre quello C'è sempre quello che vuole strafare Quando tu senti Grandi cantanti Cioè se noi stiamo qua a parlare E se tu mi dovessi chiedere Per quello me lo chiedo da solo Così Se tu mi fai la domanda Del tipo Luca Fammi un esempio Cioè dimmi una delle canzoni Popolari italiane Diventate popolari italiane Più difficili in assoluto Da cantare Per i tranelli tecnici Che nasconde al suo interno Io ti dico Sai qual è? Ancora di decrescenza È una delle canzoni Da cantare Più difficili in assoluto Perché tecnicamente Consideriamo che lui è stato Per un certo periodo Erroneamente Definito Stevie Wonder italiana Ma lui è musicista Di fisarmonica Quindi abituato A un certo virtuosismo Che si chiama Nascosto Il ghosting Capito? C'è nel senso Il virtuosismo Un po' Suona Nascondendo Le difficoltà tecniche Che ci sono dentro Una parte Dove è pieno di melismi Così detto Quindi il canto melismatico Ma che sono talmente difficili Che ne so Sono un passaggio Per farti capire Quando c'è Tutto il casino Fatto per averti Per questo amore Che era un frutto c'era un frutto acervo E qui E adesso che ti voglio bene E lui lo fa così E adesso che ti voglio bene Io ti Per tu Non ci sono tutte queste cose dentro Casino Cantare Questa cosa con l'alculato di uno Viene completamente schiacciata Niente Il vibrato viene fuori Viene fuori così Capito? Quindi non hai più il vibrato Viene ammazzato tutto E se ti dico Qual è una canzone Tecnicamente femminile Non impegnativa Ma impegnativa Da un punto di vista Teatrale Vocale Allora ti dico Almeno tu Nell'universo Di Mia Martini E se poi tu mi dici Qual è una canzone Che a livello tecnico Fa cagare Proprio fa cagare A livello tecnico Ma è una canzone Pazzesca Ok Quindi c'è il contrario Di quello che abbiamo detto all'inizio Capito? Cioè prendiamo una canzone Che proprio È il contrario Di quello che abbiamo detto all'inizio L'ho detto prima Cioè quando tu canti Il contrario della perfezione tecnica Insomma Il contrario della perfezione tecnica Guarda Ce ne sono tantissime Ma una che È il connubio Tra parole E sofferenza È Emozioni Ti battisti Cioè che lui Lui tecnicamente Va detto Faceva cagare Cioè non possiamo dire Cioè un termine Non era bravino Era limitato Tecnicamente Aveva i suoi limiti Molto Molto Hai capito? E la voce aveva anche un suono Abbastanza fastidioso Non possiamo dire Che fosse un suono È capito Piacevole Però cacchio Cioè Era caratteristica Era una caratteristica Micidiale Ma come poteva essere Tanti altri cantautori Ci sono fortissimi Capito? Quindi io Ho prodotto E produco anche Una cantautrice Che secondo me Io prima Tipo in macchina Ho sentito una canzone Di Ivano Fossati Che c'ha ovviamente Una voce Rotta Tra virgolette Però Cioè Una capacità interpretativa Anche di recitazione Eppure in quello Sta l'emozione Credo Poi vabbè Io ti dicevo Io produco anche Una cantautrice Che però vocalmente Ne ha da dire E quindi c'è Ma Malgrado abbia vocalmente Da dire delle cose Molto importanti Cioè quindi Tecnicamente molto avanzata Per il suo genere Non fa neanche tutto quello che fa Hai capito? Quello che sa fare Mette al servizio della sua musica E questa è una cosa importante Se io devo cantare un brano di Appunto Di De Gregori Mica mi metto lì a fare Hai capito Le wonderinate Cosa c'è Che senso avrebbe Cioè a livello E questo un po' Perché Non c'è più l'arte Non c'è più la capacità Di mettersi a fare Arte sul serio E soprattutto Non c'è La voglia di mettersi Anche in discussione Cioè se io sono uno Che fai Un numeri da circo Benissimo Arrivo Sono l'unico Faccio il figo Sono il primo italiano Ad aver pubblicato Con l'etichetta Blue Note Un live al Blue Note E chi se ne frega In Italia E che è quello che voglio dire Però se devo cantare Emozioni Devo cantare Emozioni Comunque con questa cosa Di interpretare i brani Di emozionare Di usare la musica In questo modo C'è una cosa Che quasi mi manca Secondo me E però non lo puoi fare Finché c'è ragazzino Di 18 anni Hai capito Perché che cosa racconta Ragazzino di 18 anni Non è che quando tu hai sentito Cavolo De Gregorio Quando tu hai sentito A Sanremo Almeno tu Nell'universo Mia Martini Aveva 18 anni Anche Renato Zero Che tecnicamente Non sarà mai stato Chissà che Però Cioè Tutto a livello Interpretativo Emozionale Però esistono anche persone Che a livello innato Hanno qualcosa E secondo me Poi il compito De chi lavora Nelle alte sfere Dell'editoria musicale È trovare queste persone Io per esempio Faccio sempre un esempio Ne parliamo spesso Con Con Marco Zanoni De Ellie Golding Ellie Golding Ha un filo di voce È tutto Un sussurrato Tutto uno sfiatato Ma Ha qualcosa Di talmente unico A fin da quando Era poco più Che una ragazzina E quella Quando la trovi Devi soltanto Trovare La sua zona di comfort Dentro la quale Farla muovere E tu C'hai una hit Ogni singola cosa Che interpreta E questo Secondo me È il problema Che oggi È forte Soprattutto Nell'editoria italiana Che il circuito Talent E il circuito Ok Quello è famoso Sui social Ai numeri Quindi va spinto Ha sostituito Un lavoro Che fino a qualche anno fa Fino a una decina Ventina d'anni fa Era fondamentale Che il lavoro Dell'A&R Dell'etichetta No La persona Che visionava Miliardi di live Andava in giro Nei locali Miliardi di demo Che venivano mandati E cercava Qualcuno di unico Su cui poi investire E veramente Investire A livello Tecnico A livello Economico Era così E dovrebbe essere Era gente che ci capiva E gli Einar Dovano essere persone Che macinavano Musica E tieni presente E tieni presente Però Che allo stesso tempo Il lavoro Come hanno fatto Su Elisa Voi vi ricordate Un po' Come è nata Elisa Elisa Era stata Arriva da un paesino Cioè da un paese Della zona Del Veneto E Trentino Alto Adice Quella zona È del Veneto Ok La Caterina Caselli Lo staff di Caterina Caselli Sentì Questa ragazza E siccome Questa ragazza Voleva cantare In inglese L'hanno presa Ok L'hanno messa sotto contratto L'hanno nascosta Per due anni L'hanno messa in mano A chi poteva Formarla Di più L'hanno Americanizzata Il più possibile Ok E da lì Da lì Hanno cominciato Per tirare fuori Un signor album Prodotto Ovviamente Con persone Che di questo mestiere Lo fanno nel mondo Ci sei? Sì sì Infatti erano cose Che sembravano internazionali Mi ricordo questo pensiero Di quando ero piccolo Che volevo capire Se fosse italiana o meno Perché era una cosa Internazionale Quelli stori Labri Pezzi veramente Che erano totalmente Internazionali Anzi forse Suonavano molto Scandinavi Ci sentivi anche Bjork In alcune sfumature Ma poi c'era lei Che faceva Eeeh 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 Che studiano Cioè io prendo uno E misuro Il talent Che cos'è Un talent show Cioè un Cos'è un talent Intanto E' quello che dovrebbe Sostituire La figura Di quello che dicevi prima Ovvero il talent scout Lo scouting Cioè quello che vado a cercare Il talento Trovo il talento Lo porto dentro Nella scuola di amici Invece di fare una lezione Alla settimana Questo c'è la possibilità Di studiare tutti i giorni Parliamoci chiaro Ma chi è che c'è la possibilità Qua in Italia di studiare tutti i giorni A pagare maestro tutti i giorni Nessuno Ok Questo c'è Quest'opportunità Quello in sei mesi Può fare il lavoro Che normalmente Se fa seguito Con i crismi Ok Che si può fare in due anni Ok Tre anni Quindi Se io cerco un talento Che posso in sei mesi Modificarlo E farlo diventare qualcosa di importante Allora questa cosa Questo lo prendo Ma se ne prendo uno Che non ha Che Magari capisco anche Che può avere anche Del talento Ma mi ci vogliono Anni per capire Intanto se viene fuori E da lì puoi ancora formarlo Non lo porto dentro un talent Hai capito E l'altra cosa è Deve formarsi Tra due anni Tre anni Vai e metti i libri sotto braccio Vai a studiare Poi vieni e torni Ok Così era una volta E si elevava il livello Era questo Capito Se tu oggi sostituisci Questo meccanismo Intanto non pensare Che non ci siano Allora tutti sono fuori Tutti quelli che sono dentro lì Sì Cioè Per assurdo Quando mi viene fatta domanda Ma allora se fosse per te Lì dentro Non ci dovrebbe stare Nessuno dei ragazzi Che c'è Infatti Non ci c'è Se deve essere Diretto No Perché con tutti quelli Che ci sono fuori Come mai quelli che sono fuori Che io vado a sentire in giro Mi trovo in giro In concorsini In scuole In menate Sono fortissimi E sono fuori È un controsenso Capito Che cosa si è fumato Il talent scout Che cosa si è bevuto Cioè Cosa è andato a vedere Aveva le scimmie urlatrici Nel cervello Per andare a scegliere persone Che sono nettamente Totalmente Inferiori A Gente che c'è fuori Che fa paura Ma non esiste Capito E invece tu vai a vedere Il talent inglese Americano E lì ci sono Dei talenti pazzeschi Che quasi Mettono in imbarazzo La Jennifer Hudson Ho capito O Che ne so John Legend È seduto lì Boh Sì 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 Guarda Io Come ho detto prima Ho notato Semplicemente Che la musica pop Ormai Fa schifo Cioè proprio quella Attuale italiana È plasticosa Come ho detto prima E Mi auspico Veramente Un ritorno Di un fenomeno pop Musicale Che Ok che ci sta La musica Quella fatta bene Che può essere La musica classica E il jazz La musica formata Che tu vai ad ascoltare Magari In un festival jazz Con tutti i musicisti Formati Però a me manca Magari un fenomeno Come Come i Sex Pistols Che Ok che sono punk Ma un fenomeno pop Di quel tipo là Di quel calibro là Un qualcosa che Sì Un qualcosa che Hai detto una roba importante Cioè scusami E tu hai detto Grazie a cavolo Troviamo anche Di gruppi rock Che ce ne sono in giro Invece di mettere Quattro ragazzini Che sono usciti Dalla sala prove Male E li metti lì Li dipingi come se fossero Il più grande gruppo Rock esistente in Italia Ma i veri gruppi rock Non si incazzano A me mi pare che servono Solo a far comprare Più strumenti Ai bambini Questi Il problema enorme È che in Italia adesso Secondo me si investe Soltanto Oppure per la maggior parte 90% In artisti molto giovani Perché ovviamente Hanno meno pretese Sono più facilmente Portabili Nella direzione Che vuoi Ad esempio È difficile che nasca Un fenomeno Ti faccio un esempio Metro Games Francese Veniva da Sexy On D'Assaut Uno che diventa Un artista pop Solista Che già era grande Già c'aveva Una bella carriera Alle spalle Già c'aveva Una sua formazione Tecnica Importante Non era Un pezzo De Pongo 18 anni Da plasmare Era uno che Già c'aveva Il suo mondo interiore Viene Preso E viene Ci viene investito sopra E diventa Un fenomeno pop Mondiale Gigantesco Un successo enorme Perché in Italia Gli unici artisti nuovi Che nascono Per lo più Stanno sotto i 20 anni Il massimo 20-21 anni Dov'è il problema? Cioè ci puoi lucrare De più Per più anni No ma il problema Guarda la gestibilità E l'ultima cosa E l'altro problema È che negli ultimi anni Si è data talmente Tanta merda Che gli unici Fruitori Di questa merda reale Parliamoci chiaro Gli unici Fruitori Sono i ragazzini Un target Che va dai 6 Ai 12 Dagli 8 Ai 14 Capito? Sono quelli Fruitori Di tutti questi Streaming Che vengono fatti E quindi devi Diciamo che oggi Tutta la trappa italiana Che senti Quella da ragazzini È La Cristina La Cristina d'Avena Di 30 anni fa Capisci? Cioè era Il Dragon Ball Era che ne so La Pemaia Di 30 anni fa Questa è la realtà Di fatto Solo che si è ingigantita Questa roba E siccome Tu non vai a comprare Più niente Hai capito? Allora quello che si vende Che cos'è? Cioè quello che fa mercato In questo momento Sono gli unici ancora I ragazzini Che fanno tutto Sto gran casino Che però appena metti Un biglietto a 40 euro Per andare a vedere Un concerto Il genetore dice Oh e te Una volta Però non è che puoi Andarmi a fare Capito? Avete 40 euro Sta stronzata E oltretutto Poi c'è di Poi ci colleghiamo Al discorso dell'inizio Però ecco perché Poi gli artisti Secondo me adesso Oggi pendono meno Ed è imparagonabile Il mercato Della vendita Del supporto fisico Del disco Al mercato Degli streaming Da adesso Perché il commitment Anche da parte del pubblico È differente Cioè una volta Cioè le royalties Se tu potevi prendere E quello che significava Comprare il tuo disco Era veramente dire Ok io voglio supportare Quest'artista Perché credo in questo progetto Mi piace Sono un fan E adesso Il mercato Delle streaming È difficilmente interpretabile Perché forse magari Uno dei quei listen Centomila dei quei listen Un milione dei quei listen Sono perché stavi Nella playlist giusta Oppure alcuni L'hai fatti L'hai schippata a metà Stavano Insieme ad altri artisti Che ti piacciono È molto difficile Stabilire Quanto Del milione D'ascolti Che fai Sia perché la gente Crede in te Perché te supporta È quasi Indecifrabile Secondo me questo è il grande Contrappasso Della tecnologia Che va avanti E ci dà tutte le comodità Perché io mi ricordo Quando c'è io Per ascoltare La canzone Dei Muse Che avevo sentito Al festival bar Nel 2004 Mi sono dovuto Andare a comprare Il cd Però questa necessità È durata poco Perché già Tre anni dopo C'era già Youtube E potevo Ascoltare quello Che volevo Ci hai fatto caso Nel momento in cui Compravi un cd Che importanza Davi A quella musica Per quanto tempo Te l'ascoltavi Prima di sostituirla Con un'altra cosa Magari C'hai capito C'erano gli amatori Che comunque Questo discorso Ancora lo fanno E ancora te lo vanno A comprare il cd Ma io prima Andavo a comprare il cd Magari Non è che facevo Tutto questo discorso Vado a supportare la band Era proprio perché Io volevo Ascoltare musica Capito Invece Se vuoi ascoltare musica È facile Magari prima Essendo un po' più difficile Comunque Cioè Sì Lo sapevo che stavo Supportando la band Ma era comunque Una band internazionale Che pure se non c'ero io Non pensavo che cambiava tanto Volevi loro Volevo loro Volevo ascoltare Non c'era altro modo Che ora Come ho detto Non è che mi sto lamentando Dovremmo tornare ai tempi Ovviamente no Però è un contrapasso Proprio Normale Credo Ha senso Sai cosa mi fa tenere Che Una volta No Faceva anche figo Ascoltare cose Che gli altri Non ascoltavano Cioè Era La cosa La Gara Alla cultura Cioè Quello che Capito Che aveva scoperto Questo Ah Ma tu hai sentito No Hai visto che Ascoltare Cioè Trovavi L'artista Il genere musicale E le cose Che c'è Lo stile Personale Di un Che ne so Di un altro Gruppo Che tu cercavi Di trovare E di trovare Qualcuno Che magari Che come te Aveva capito Quella cosa lì Oggi è talmente Tutto standardizzato Ok Ma in Italia Ma in Italia Siamo arrivati A un livello Veramente povero Perché Andate Stasera Che giorno è oggi Martedì Sì Martedì 12 12 Allora Venerdì Andiamo a vedere Quale sarà La classifica finale Quindi il sabato Lo troviamo Di billboard Di questa settimana E vediamo Cosa c'è in classifica In questo momento Vediamo In Inghilterra Che cos'è E la paragoniamo Alla nostra Paragoniamo Intanto Avete tirato fuori Una cosa Ma voi avete visto Quello che sta succedendo Su Spotify Cosa La più grande schifezza Che stanno mettendo in atto Adesso Che praticamente Se tu raggiungi un top Non percepisci più nulla Oddio Tipo Un capo Forse però Per chi Si Per chi si autopubblica Autonomamente Nel senso Se sei in un publishing Grosso E sai che ne so Con una grossa azienda Dei claim Dei meccanico rights Che ne so Una cloud nine Cioè i soldi ti arrivano Non lo so Nel senso Se sei in un circuito Di persone che raccolgono Non lo so Poi dipende Dovresti farlo In un circuito Dove raccolgono E smistano Guarda che Una delle più grandi schifezze A voi piace molto indagare Quindi Una delle più grandi schifezze Che si fa Nella Nell'editoria commerciale E quindi Guardo in faccia I grandi direttori Di questo momento Cagatevi sotto Perché lo dico Quindi Una delle più grandi schifezze Che si fa Nell'ambito commerciale Quindi nel mainstream È che Si Laddove Ci sono Il sotto È sempre stato Anche nei bollettini Ok? Anche sui Stemmini Si Che avevano dentro Il loro Numero Ok? Che si attaccavano Anche dopo Che avevi stampato Il disco Per interdeci Quindi Cosa vuol dire Vuol dire che io Se vendevo Cento dischi Quello ne vendeva Mille Dovevo portarlo A mille e cinque Quei cento dischi Che tanto non procuravano Niente Passavano come se Le fosse andato A venderli Quello dei mille Quindi diventavano Mille e cento Gli altri cento Mille e due Mille e cinque Preso Ok di là Adesso posso mettere Gli altri Quindi guarda Il tuo disco Non è andato bene Tanto sei nuovo Io devo investire E fare lo scarico Tasse di prima Che mi fotta a me E capito E t'ho preso T'ho usato Per andare da un'altra parte Uno Due Ma Gli altri soldi Come C'era Nella CI Come c'è In Spotify Ma dove vanno Se tu non raggiungi Mille Dove vanno Quei soldi Se li prende Spotify Penso Se li prendono i publishing Ovviamente Cioè nel senso Se li tengono Perché tanto Certo C'è da dire Che anche il mercato Dei supporti fisici Era falsato Anche ai tempi Cioè tanti album Che hanno Vestuto milioni di copie Tante copie Vengono veste In dei magazzini Perché c'erano Già accordi di distribuzione Con le grosse catene E magari un album Vengono un milione di copie 300.000 Stanno ancora A prendere polvere Dentro a qualche scantinato Con Spotify Abbiamo dato potere Ad un'azienda Per la comodità Abbiamo venduto Secondo me Abbiamo venduto Quella 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 cosa Di andare a cercare La musica Per il progresso Per la comodità Abbiamo dato Le chiavi in mano Di controllare Come va Il mercato musicale Mondiale A un'azienda Purtroppo a una sola E questo è un problema grave E tutte le altre Che hanno imitato Poi Quell'azienda lì Però non ce n'è Una allo stesso livello Quindi si crea Una sorta di monopolio Porca droia Un problema A voi E certo E poi Andate a indagare Poi se volete Avremo tempo Ne parleremo una volta In maniera più approfondita Allora Questi magheggi Non solo si sono fatti Ad alti livelli Si sono fatti Dei livelli A livelli anche molto più bassi Ok Questo quando serviva Che ne so Prendere un artista Che avevo già lì Da tempo Non riuscivo a farlo decollare Quindi dovevo trovare il modo Avevo investito tanto Dovevo recuperare In qualche modo Ok Da lì Hai capito Da lì Si è partiti Con Un magheggiare Prendo un po' di qui Un po' di là Un po' di su Un po' di giù Ma come dirvi C'è quello che c'ha Al ristorante Che Quella sera Deve fare una cena Deve fare C'ha cena Un po' di clienti Magari anche Benestanti Che spendono Che non guardano il colto Carico un po' lì Carico un po' là Il 10 di qua Il 50 di su E mi salta fuori qualcosa Che poi Do dall'altra parte Capito Mi salta fuori lo sconto Che ho fatto dall'altra parte Mi sono spiegato È una cosa che abbiamo un po' Normalmente nel DNA Questa cosa qui Allora immaginate Questa cosa Rapportato nelle grandi aziende Nelle grandi distribuzioni Cioè noi dobbiamo trattare Pensare Che oggi la musica È come Un supermercato Ok Anzi Come il supermercato Se vuoi entrare nel circuito Dell'Esse Lunga Della Coppa È una cosa Se vuoi entrare Nel Lidl E Aldi È un'altra Se vuoi entrare Nei supermercatini Di periferia È ancora un'altra Ok Quindi Ci sono lobby Dappertutto Nella musica Dove girano La musica è in grado Pensate negli Stati Uniti Di spostare il PIL Ok Perché pensate Che qua non si è in grado Di poterlo fare in Italia Certo Certo Solo Sanremo C'è un movimento economico Che noi nemmeno ci immaginiamo Quindi Ecco perché La commissione Gli inciuci Perché oggi Sanremo Va a chiamare le persone Per portarli Per dirgli Se possono venire lì E che Magari il brano Lo si trova Se non ce l'hanno neanche Invece di fare la commissione Come una volta Che arrivavano lì Un sacco di brani Di un certo tipo Che in teoria Era sulla canzone Sulla bellezza della canzone Quindi mi stai dicendo Che adesso Addirittura prendono Prima la persona Perché è più importante Ovviamente Il pupazzo E poi la canzone Vabbè Assolutamente sì Ma questo succede ormai Purtroppo Anche ad amici Anche a X-Factor Cioè io vedo Il ragazzino Che su Youtube Sta facendo Degli ascolti Lo chiamo Ma è venuto fuori Il casino con Ariete Da parte di Rudy Zerbi Qual è il problema? Ha chiamato Dicendo ciao Senti io sono Rudy Zerbi Vuoi venire qua? Ariete gli ha detto No guarda Non è in linea Con le mie cose Con quello che sto facendo Dopo lui ha detto Guarda hai fatto bene A non venire Visto quelle cose Che ha ottenuto Hai capito? Cioè Poi ha ottenuto Le cose Con tutto che a me Ariete non piace Per intenderci Cioè non è un artista Che trovo interessante Da nessun punto di vista Ma questo Ripeto Il mio punto di vista Poi se vado Ad analizzare Vocalmente Lasciamo stare Per quanto riguarda La scrittura Ciao Cioè ne ho sentito Un miliardo e mezzo E la copia Della copia Della copia Della copia Della copia Della copia Luca mio Un giorno allora Parleremo dell'indie italiano Del nuovo cantato orato Se c'è una puntata Soltanto per quello Non è cantato orato Quanto vorrei abbracciarti In questo momento Mamma mia Sull'indie italiano Aiuto Fermiamoci in tempo Se no qua C'era Davide Che è il nostro Altro collega Che da casa Ci ha scritto reaction A Grimbaud Tu non so se sai Chi è Grimbaud Sai chi è? Ok Quindi è un grande streamer Che andrà a Sanremo Giovani Quest'anno Metti la song Che è andata Che va proprio direttamente A Sanremo Giovani Si chiama Mamma Mica è questa Marco Ma cosa hai messo? Marco Infatti ti ho detto Se ti guardo la carriera musicale Dei Grimbaud Sei veramente ignorante A questo punto lo posso dire Mi dispiace Posso dirtelo Ti offendi Sì vabbè Dai ci può stare Ma perché mi volete Volete questa cosa su Grimbaud? Sì ma infatti Non lo so È Davide che ce l'ha chiesto Infatti per me si può pure evitare Mi dicevi Cosa devo fare Io ho detto Che cosa dobbiamo fare Favamo o no Favamo Che poi è brutto Capite nel senso Perché ovviamente Che puoi dire Come si chiama Questa canzone del merda Ma che cazzo ne so Marco Madonna Ma che ne so Guarda Mamma Voi volete Volete Praticamente Crearvi un nemico In più Ma già ce l'abbiamo Ma già Come si chiama Sta canzone? Mamma Mamma Vai Marco È come sentire Nati Holden ad amici Cioè voglio dire Comunque vabbè Se vogliamo sentire Green Holden Texas Holden Ma guarda io Voglio sentirla quanto te Luca Però dai Magari Fa ride a qualche bambino Ma se va su Sanremo Non lo so Vai vai Sì sì Quelli saremo giovani Già so Ah ok Però dove sta? Su Youtube? Perché Ce l'hai là E questo è Rai Sanremo Però Vai vai Sì sì No no La senti Ma no C'è il vivo Se vuoi andare a vedere Sì c'è anche su Su Youtube Vabbè dai Mostra qua Ma togli la da schermo Perché c'è otto tastiere Ragazzi Stai recando Non restare in para Che non torno a casa Da una settimana Un po' Non ho scoperto la scala minore Interpolation Ah si va beccata prima De me giustamente Cioè Che interpolazione Ma sono curioso Non l'ho beccata ancora io Vai avanti Vai avanti Stillo che ti spacco la cassa Parto già da sera Fino alla mannana Mi giro ogni culo che passa E la mia tipa dice Ne parliamo a casa Voglio un ambe D'un fam Salto il coro che passa Sento voci che fanno Giro quartieri Nemmeno mi trovo Babbo diccio alla mamma Stai tranquillo tesoro Ma tu figlio gli pazzerà Ci pensano loro Quegli amici di plastica Denali Bu Euro Vuol fare anche una citazione Melody carino gaetano Per dare un po' Di senso logico Capito questa c'è cosa è riuscita a migliorarla tantissimo comunque poco tempo lei è già molto meglio c'è cosa devo dire cioè ragazzi cos'è che devo dire di 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 questa io perché allora ditemi come ha fatto ad andare a sanremo sono curioso non ne ho idea grazie per aver visto questa live meglio non entrare in questi argomenti ognuno ha il suo pensiero un amico vabbè però come ha fatto sarà una cosa fattuale cioè nel senso un percorso secondo me c'è un'attenzione ad oggi in chi seleziona gli elementi da portare in questi contesti sia talent sia sanremo anche a quello che è un pubblico di riferimento che può arrivare su una determinata piattaforma quindi se rai vuole svecchiare ovvio che se vede che un ragazzo ha un seguito all'interno di una piattaforma molto giovanile come twitch può essere una ma a tutte di queste persone interessa la musica no sempre meno ma perché ormai alla maggior parte delle persone che mangiano con la musica non interessa della musica la musica è intesa come scusa ma fammi una fammi capire no cioè se tu prendi adesso aperto voluto aprire no il le informazioni su green boat ma se già la rai ti dice no c'è ti fanno quello specchiettino che ho scritto all'anagrafe simone buratti no ok dopo una breve esperienza sulle principali piattaforme social decide di canalizzare tutti i suoi contenuti su una delle piattaforme di streaming video più popolari al mondo diventando uno degli streamer italiani più seguiti in assoluto cosa mi serve come mi serve cosa mi serve a me direttore di sanremo cosa mi serve dunque devo fare gli ascolti devo fare streaming perché non so se avete visto anni che hanno giocato anche con morandi sul discorso degli streaming sui follower su quanti milioni l'instagram di morandi l'instagram di amadeus l'operazione morandi rovazzi no serviva quello per serve quello devo diventare devo farlo diventare una roba giovane quindi vado a prendere vado a prendere uno streaming uno streamer vado a prendere uno youtuber vanno a prendere uno un social che un ragazzo social che funziona al alla grande alla grande hai capito alla grande e lo faccio di lo chiamo e gli costruisco anche un progetto sempre quante volte vengono da me a dirmi io senti vorrei produrre questo ragazzo che va forte su youtube ciao oppure su instagram c'ha che ne so 800 mila follower sì anche se fa cagare però facciamo un'operazione un'operazione commerciale però vedi dov'è il problema cazzo scusate dico cazzo ormai l'ho detto di cazzo cioè ormai quello che a me sembra è che la voce come strumento è il canto ormai è vandalizzato è l'unico strumento su cui si può dire vabbè anche se non ci stanno i presupposti qualcosa si inventamo tu non lo puoi dire un batterista diventa batterista porco due dei muse però non sai suonare la batteria cioè vabbè qualcosa si è inventato perché poi live video che andrà fa il canto invece è ormai è stata diffusa questa questa falsa notizia che anche senza talento comunque vabbè ci metti la fotta ci metti a qualcosa fa qualcosa si inventamo gli diamo un'aggiustata tanto l'importante è che è che lui è true no che è un po' simile a quella cosa che abbiamo detto l'attitude si dice tu hai l'arte l'attitude hai qualcosa a dire ok però veramente con la voce è stato fatto per una vandalizzazione totale perché ovviamente però guarda che dici questa cosa sei boomer se tu dici questa cosa sei boomer perché quando senti un ragazzino durante un pomeridiano su amici che dice se non fossi stato per l'autotune sai quanti artisti quanti talenti artistici sarebbero rimasti al bar ma quando senti una frase del genere hai chiuso cioè ecco vuoi dire ma certo a me vengono in mente che ne so tipo l'album di paul mccartney nel 1980 dove ha iniziato a sperimentare con effetti vocali che snaturavano la voce no li ovviamente stiamo parlando di un cantante espertissimo che gioca con la tecnologia io parlo dei pezzi sperimentali di paul mccartney tipo check my machine è che poi lui giocava molto con cambiava proprio il tempo della voce da una canzone all'altra infatti prima abbiamo parlato tantale sia come abbiamo già detto in passato in altri live a cui ci siamo dedicati sull'argomento quello che volevo di aspettare era che un conto è il musicista o comunque una persona che lavora con la musica che usa la tecnologia su una base di sostanza un conto è che mo sta passando come dici te che basta invece appoggiarsi solo sulla tecnologia senza sostanza che comunque te la cavi ma è proprio è una cosa di una dignità pari a zero artistica e come ho detto prima non c'è la vera curiosità e sperimentazione che dovrebbe esserci bisogna fare un po di informazione noi ogni tanto ci abbiamo parlato anche su questo che tutti se la prendono con l'autotune non ho quasi demonizzare il marchiantare il mezzo non è il problema perché autotune lo vedi te ne accorgi il problema è quello che non vedi il problema è l'utilizzo massiccio di melodine vari audio pitchflex quello è quello che tu non vedi e che ti vogliono far passare per verità l'autotune invece te lo spiattello non faccia lo senti c'è ma questo discorso l'ho fatto pure così ma quando è nata la distorsione per chitarra è come pure quella era una cosa mai sentita prima no non è la stessa cioè non potevo dire non sei un vero chitarrista perché usi la distorsione no però la distorsione non corregge il chitarrista cioè il discorso è questo è come se io però tu il cantante ci può giocare con l'autotune anche allo stesso modo anche il chitarrista perché non so se tu lo sai ma c'è il melodine per la c'è il correttore anche addirittura armonico nel senso che lavora sugli raccordi il problema non è quello guarda che il problema dell'autotune dell'autotune non ce ne fotte niente esiste dal 1997 cioè anzi se usi l'autotune per quanto mi riguarda sei un boomer perché c'è una roba che si usava talmente tanti anni fa che usarlo adesso ancora mettono nella trappa dal mio personalmente fa cagare rapa senza che meglio mi dai ti sento anche più personale ma detto questo il problema è che viene inserito in un contesto sbagliato cioè se tu vai a fare un concorso dove c'è il canto ok e fingi di saper cantare intonato spiattellando 8 80 quintali di autotune quindi non sapremo mai se sento nato no quello è sbagliato allora fai dividi le categorie io quello che ho detto anche cioè amici ma cazzo di dividere queste categorie canto moderno classico jazz r&b quel cacchio che vuoi trap con l'uso dell'autotune e cantautori è come quelli che c'è che danza classica danza hip hop hai capito è tanto sì è chiaro che l'autotune è peggio confronto alle differenziazioni perché perché come se tu filtrassi il balletto di un ragazzo lo metti su un computer lo elabori ok a livello animatic e poi lo rifai lo e non non voti il balletto che ha fatto il ballerino ma voti il risultato di un animatic c'è quindi di quello che un fonico in questo caso un regista è un produttore di animazione prendendo i movimenti umani ti fa vedere il cartone animato capito cioè certo certo specie in un contesto comunque scolastico dove uno deve apprendere delle cose e anche fare una sorta di saggio che c'è che cosa posso capire di quello che ha imparato veramente se sei comunque aiutato da una tecnologia poi certo i cantanti si usano si aiutano da sempre con equalizzazione riverberi di lei vari però questo diciamo non è sono però abbellimenti del suono e come dire c'è il riverbero l'uso nella chitarra il riverbero l'uso nel in tutti gli strumenti c'è la stanza c'è anche nella stanza in cui canti anche in natura riverbero se canti in una stanza sì sì però un ecco sbagliata tipo tipo però rovinare comunque anche quello che il pubblico ascolta sì però un ecco particolarmente giusta non cambia risultato totalmente in realtà il vero la vero equalizzazione perfetta è quando tu riesci a riprodurre attraverso un microfono adesso compiuto adesso tutti gli hardware che vuoi e i software che vuoi quando tu riesci a riprodurre esattamente il suono che in natura è la cosa più difficile i problemi della della sovra equalizzazione nascono anche da quando poi nel nella musica prodotta che deve uscire se fa un utilizzo smodato della compressione quindi più comprimi più di andare a scavare alcune frequenze perché ti rifai talmente tanto quella mondezza soprattutto se poi lo studio non è uno studio come quelli di cui parlavamo prima soprattutto se è un home studio tu comprimi stai voci a manetta e c'è sta tutto la lo schifo della stanza non trattata poi la veramente devi fa i miracoli del cu la compressione porta tutte le tracce a essere diciamo dei dei salcicciotti e piatte no appiattisce pure le le dinamiche che nella musica quella più suonata più acustica ovviamente ti andrebbe a distrugge proprio quella sensazione non ti so di poco viva come posso dire la musica ma pure quella cosiddetta loudness world cui parliamo sempre no quella pure ha un po distrutto e e standardizzato il suono medio il suono standard di quello che che deve essere una produzione da billboard da top 10 a top 20 perché mentre se tu fai un brano pieno di dinamiche ma che suona 7 8 db sotto i brani che stanno in classifica a un orecchio meno allenato sembra ma sta roba non suona e quindi viene schippato automaticamente quindi sei quasi costretto a standardizzarti a uniformarti al resto delle produzioni cioè ormai è tutto un circolo vizioso è difficile uscirne ma guardate state dicendo tutte cose talmente anche interessanti da analizzare non nel senso c'è da è un confronto fighissimo secondo me perché mi dà anche l'opportunità intanto di capire quello che voi trattate come vedete la musica poi vedete che non ci non ci sono grandi differenze di visioni ok che c'è tra di noi anzi ci sono cose in comune quindi vuol dire ma sarà vero che ci sarà così tanta gente che la pensa al contrario di questo perché io sto avendo ultimamente dei feedback strani no cioè c'è meno gente che critica le cose che sto dicendo io poi parlo chiaramente di canali malgrado mia faccia canali dove vengo facilmente massacrato come può essere tic toc come può essere capito youtube ma c'è veramente così tanta gente che non capisce che quello che sta succedendo è un disastro totale io penso che la gente se ne stiano accorgendo e anche i ragazzi perché comincia a essere tutto too much è il solito è quello c'è il mondo l'evoluzione è quello adesso c'è un'involuzione fra un po ci sarà una merda talmente tale che staremo che neanche ci riusciremo a pattinare più sopra se gela quindi cioè staremo talmente soffocati dalla merda che avremo per forza bisogno di uscirne sì ci potrebbe essere una sorta di rivoluzione o comunque che scoppia qualcosa però dovremmo prima essere completamente sovrastati però ci siamo riuscendo ci siamo riuscire che sì secondo me un altro rischio e questo magari può sembrare una cosa molto boomer e che però ci magari le nuove generazioni neanche se lo ricordano più come era la bella musica e quindi non hanno esempi cioè noi magari abbiamo questa dissonanza tu ovviamente molto di più ma pure io cioè che la musica che ascoltavo generalmente proprio la musica pop io parlo di quella e non di quella incravattata da conservatorio la musica pop era di ottima qualità e non può essere solo un effetto della nostalgia abbiamo citato prima elisa proprio di quella italiana parlo ora invece ripeto sento solo a questo qua è un progetto delogic bounceato contro il b capito è messo lì è pure un po diciamo la deformazione professionale che poi ti porta ad accorgerti di cose che ti rompono anche un po la magia però secondo me a livello internazionale ancora c'è la musica pop di alta qualità tu senti un brano d'estromea che esce io parlo dell'italia sì 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 il problema in italia sempre di più e e sembra quasi poi l'esterofilia no che ci porta dire beh tutto quello che sta fuori è bello il nostro fa schifo suona meglio tecnicamente meglio c'è stancazzo da fa esatto ma la cosa bestiale no quando tu a me la cosa che ha fatto impazzire nel momento in cui c'è stata questa diatriba fortissima perché zerbi fece un uscita veramente ragazzi apocalittica cioè che io l'ho l'ho mandata apposta dei miei amici che stanno a new york e con l'uscita dove lui dice poi li ho messo sotto la traduzione dove dice ragazzi dovete sapere che l'intonazione è una visione antica del canto allora io ho detto che c'è ma fatto totalmente era talmente grossa questa roba qui che l'intonazione una visione antica del canto era talmente una puttanata talmente pericolosa possiamo dire la pericolosa ma detta a favore dell'autotune che deve intonare tutto la perfezione al cento per cento spegni quel super caso di autotune visto che non serve essere intonata bravissima super cazzola enorme quindi quando io sentito una ragione ma il problema dove all'inizio ho riso come un pazzo ho detto c'è questo un deficiente pazzesco non ho detto c'è però ho detto non c'è un punto detto no adesso attenzione non è come sono un deficiente e no qua sta tirando l'acqua il più possibile al mulino della sua al suo grande mulino della sua oceanica ignoranza e quindi detto cosa deve fare uno così che c'è un un'ignoranza oceanica deve abbassare il livello più possibile perché sennò a fuga nel suo stesso oceano di merda e allora cosa ha detto sta frase in tv a canale 5 la domenica pomeriggio c'è è una roba su milioni tutti i ragazzi che hanno detto cavolo allora se se è così allora possiamo cantare tutti l'hanno detto in televisione che poi ti danno del boomer e ascoltano la televisione la stessa cosa che quando sentivi il nostro nonno che diceva io l'ho detto in televisione capito l'hanno detto in televisione allora posso fare una domanda non sarcastica veramente ingenua ma quali sono le competenze di rudy zerbi io non ho la più pallida idea di chi di quale sia la sua figura che fa che fa perché sta all'addi è molto è molto semplice perché rudy tu fai conto che prima che entrasse rudy uno dei motivi per come ne sono andato io proprio l'entrata di rudy zerbi e fino a quel momento io e rudy eravamo anche abbastanza amici possiamo dire perché siccome io sono uno che ama sputtanare le persone che fanno i fighi no hai capito cioè faccio vedere una cosa giusto ma giusto così è ma giusto così per dire siccome lui ha cominciato a fare il cretino con me tre scusami cinque anni prima che quasi sei che lui entrasse a gamba tesa e a litigare con me in trasmissione perché gli hanno chiesto di litigare con me il signor rudy zerbi ha fatto questo disco del 2004 con la sony e prodotto certo dentro ci sono scritti ringraziamenti del signor rudy zerbi è stato uno di quegli enar no ma era un produttore un talent scout lui era un direttore artistico della sony ok manager uno dei direttori dell'artistica della sony ok quindi c'è questa la rudy zerbi poi siccome e l'ho detto tante volte purtroppo stava sulle palle al 90 per cento per essere buono degli artisti sony stessi ok stava sulle palle e a qualche volta abbiamo anche parlato ok allora la cosa che mi fa ridere questo è tutto in inglese poi c'è non è una roba hai capito non c'entrava niente col mercato italiano è ok questo quindi niente ma per farti capire e io lavoravo per la sony lavoravo per la warner per la eni per la bmg per tutto quanto perché lavoravo con gli artisti di tutti non sono mai stato legato io ad una casa discografica capito sempre lavorato per tutti e quindi conosco tutti e così c'è i cazzi di tutti capito perché poi sei lì si occupi poi un ruolo importante capisci tutto no quello che succede allora rudy faceva il direttore artistico la sony poi un bel giorno ha fatto una cazzata che tanto è già uscita inutile parlare non solo vuole andare a cercare insomma un magheggio del cacchio l'ha fatto sono arrivati i grandi capi a bussare gli hanno dato prima ha fatto il magheggio quando per un anno due non sapevano chi mettere a capo della sony l'hanno messo a capo era diventato presidente della sony italia ok ha fatto poi un magheggio qualche cazzata non voglio star qua di no è arrivato il capo europeo insomma te ne devi andare quindi con la scusa della fusione non fusione ma non c'entra entra fusione fusione cioè la fusione bmg sono in se ne fotte niente l'hanno mandato a casa quindi mandandola a casa lì si è trovato come niente l'anno prima era diventato abbastanza in buone mani con maria è andato da maria dire io sono a casa non posso fare niente che fai ma sono libero maria posso venire a lavorare da te posso mi prendi faccio quello che ti serve che vedo e maria vuoi fare questo vuoi fare quello te la senti di fare di dire questo sì o basta e quindi è diventato piano piano il sì ovviamente ha fatto bene perché c'è la sua famiglia da un certo punto di vista ad accettare di lavorare in tv non ha fatto bene quando per mantenere la propria famiglia mantenere il suo benessere ok però in questo caso crei dei problemi che si riflettono poi sui nuovi talenti sui ragazzi italiani e su tutto il mondo occupando una posizione di grande responsabilità deve essere criticato a mio avviso la censura ma dico ma tutta l'esperienza maturata in anni di lavoro in una major così altra ma alla fine non in cose sono tradotti non c'è da essere una competenza tale da poter poi essere in grado di giudicare dei talenti in maniera lucida ma no ma lui non è mai stato in grado di capisce una mazza di musica cioè non ha mai capito più di tanto cioè non è uno capito ma nelle nelle grandi discografie italiane tranne le con le parti storiche a un certo punto c'è stato un casino lì dentro c'è nessuno che capisce niente capito li fan tutti quelli che capisce non capiscono nessuno quindi c'è questo è un problema serio che abbiamo ma era un amministratore di quello che succedeva lì poi aveva potere per certe cose magari se gli piaceva alla competenza che può avere uno che ascolta tanta musica commerciale in casa e capito e dice ah sai mi piace questo mi piace quello mi piace quell'altro magari c'è anche un po di intuizione o potrebbe andare questo potrebbe andare quell'altro ma è come dire quello che è stato fatto su mara maionchi che io mara la conosco da tantissimi anni ma dire che una thailand scout è molto forte perché ha fatto gli andata di culo da certe parti ma ha fatto delle grandissime cagate dall'altro cioè ha rovinato totalmente degli artisti e ne ha magari lanciati tanti altri che magari non avrebbero neanche dovuto esserci oggi certo ma queste persone si auto costruiscono anche quella figura per continuare a lavorare credo cioè non andranno a dire gli succedenti ma tu dimmi che competenze a rudy zerbi per essere un vocal coach cioè dove ha fatto il problema è quando dici castronerie culturali e musicali ma a mio avviso direi in live in tv devo andare lì benissimo vai lì fai il direttore artistico della cosa oppure che ne so fai l'opinionista no cioè c'è uomini e donne ci sono i due opinionisti di uomo e donna che lavorano con maria ad 800 anni e prendi le due così prendi lui così prendi la pettinelli li metti lì a di cazzate e ognuno dice capito le cazzate ma che poi dicano le cose serie metti dei professionisti metti dei professionisti seri questo è quello che ci vorrebbe capire sono d'accordo mi chiedo ancora riguardo a questa cosa mi chiedo però come è possibile che negli anni d'oro della discografia italiana delle persone con questo profilo professionale sono finite così in alto nel processo decisionale della discografia italiana cioè dove è stato il pro dove è stato l'errore in realtà in realtà in realtà attenzione serbi non era nel momento più alto della discografia italiana zair b è arrivato nel potere nel momento in cui la discografia italiana stava totale era già in recessione certo quindi diciamo che quelli che tu oggi pensi che nel 2010 2010 2012 musica la musica italiana stava andando a fare il fanculo definitivamente cioè stava facendo stava morendo a dei livelli incredibili c'erano fusioni continue quindi saltavano facevano la il gioco della sedia hai capito quarta data da 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 via cazzo la sedia l'hanno tolta me oggi e capito c'era era un ballo così e li vedevo tutti perché poi conoscendoli tutti sento tu guarda che oggi anzi l'altro giorno ho sentito la il nuovo vicepresidente warner oggi ok il vicepresidente perché arrivava da sony pure lui cacchio e quindi c'è io so di questa storia di fedez di company tutto che purtroppo cioè so che il vostro uno di di voi lavora in stretto contatto con fede quindi magari mi odierà per questo perché io insomma non è che eh quando ho detto delle cazzate enormi fedez e non glielo ho mandato a dire io purtroppo le dico e capito cioè quindi ma c'è una lobby lì ok che va c'è per forza ma c'è purtroppo c'è perché il sistema italiano che è fatto così è il sistema nostro che è fatto che ho vado a capo di questo mi porto dietro l'amico dell'amico dell'amico secondo me nella loro ottica loro sono degli imprenditori che lavorano nel mercato della musica tutto questo discorso della musica vera questo discorso di arte secondo me non gli sfiora minimamente neanche il cervello perché sono degli imprenditori in questo clima di disarmo generale alla fine c'è da dire ma pure aspetta pure a chi sta lì alla sony che vuole il posto da dirigente la burocrazia tutto questo con la musica e con l'arte non ha nulla a che vedere proprio un altro mondo parallelo che però influenza il mondo dell'arte capito gli artisti la psicologia degli artisti stessi oggi anche i social gli danno una mano e per questo secondo me dal 2015 in poi questi fenomeni dei costume che erano che erano la trappa italiana l'indie italiano in un modo o nell'altro gli hanno mezzo salvato il culo all'industria discografia fede italiana perché hanno hanno generato un indotto che altrimenti andava impicchiata diretta ma cosa tu ti appoggià a me fa piacere perché ogni tanto riesco a leggere che c'è ma marra perché non in chat sì ma sì ma penso che anche fede se stesso cioè in realtà voglia parlare di questo credo comunque gli farebbe bene credo secondo me anche lui è parte forse neanche è contentissimo da tanti aspetti di essere se vogliamo organizzare live sono una mezza intuizione organizzare una live dove si parla anche di questo e finalmente sfondiamo sta barriera non so neanche però quanto fede anche per motivi dei contratti possa anche abbia voglia o un modo di parlare di queste cose poi una persona non la puoi costringere visto quando io gli feci la domanda su spotify e bosca e lui mi ha detto guarda io ti rispondo entro un certo limite però voglio anche la mia tranquillità riguardo voglio dire non credo che fede abbia voglia di affrontare un discorso del genere perché perché ti dico questo perché lui penso c'è penso che per per diciamo così qualche motivo mi conosca ok quindi non è che non è che non ci conosciamo bene o male tra tra tutti poi lui ha avuto ovviamente un successo di tutt'altro tipo molto commerciale molto forte ci mancherebbe e quindi lui vive di quello che è il mondo dei social ok lui ci vive proprio alla grande quindi andare contro lui a quel sistema lì non penso che sarebbe un autogol enorme quindi non può farlo più di tanto ma è altresì vero che se viene fuori il bordello ok e quindi vengono fuori le verità e chi dice le verità è quello che detto all'inizio il problema di morgan è che è come è come sgarbino in questo momento cioè tu fino a un certo punto gli dai credibilità ok perché ha sparato talmente tante cagate che che diventa difficile se poi dici è come quello che dice al lupo al lupo al lupo quando c'è veramente al lupo nessuno lo ascolta più e viene sbranato quindi c'è il problema di morgan è che un po di cazzate le ha dette ha fatto una vita un po particolare ha sempre ma sputtana quello poi ci ritorna dentro poi ci ritorna poi va esce poi ci ritorna e quindi è un borderline quindi ovviamente diventa difficile mi può sembrare tipo mi è venuta in mente una metafora potrebbe pure essere no però morgan un grande chef che ama l'arte della cucina e tutta l'etica di essa che va a rompere il cazzo a ronald mcdonald al colonnello di kfc cioè che si sembra che si occupino di cibo ma non si occupano veramente di cibo c'è un problema che secondo me personaggi di morgan trovano un problema nell'eccessiva autoreferenzialità sì lui gli interessa la musica ma gli interessa anche così tanto di vederla sempre relazioni come non diventa più lucido capite questo il grosso problema lo dico con affetto perché adoro morgan da tanti punti dei visti ma infatti è quello che stiamo dicendo c'è il problema di morgan è questo che lui alla fine siccome anche questa sete artistica non mainstream insomma con costante ad esempio a me del mainstream non me ne fotte proprio niente anzi ci sto lontano conoscendolo bene un po come capito cioè sai che sai che quello è un virus pericoloso lo tiene alla larga no ok capito questo è il mondo e quindi vivo nel mio ma non ho bisogno di star qua ogni cinque secondi a dove a ti parlo dei miei dischi della mia cosa di mi concerti e dico ma chi se ne frega se vuoi sapere trovo sapere se non vuoi sapere non me lo chiedi e non te lo dico tante volte sbaglio perché dovrei fare come fanno tutti ma non mi frega niente io questo a parlare d'arte di musica dei ragazzi parliamo di loro morgan perde credibilità e quindi che cosa succede che tutte le cose importanti che potrebbe dire ok potrebbe dire e quando magari le tira fuori diventano delle cazzate o diventano magari il fatto che lui ha detto così perché rosica per questo motivo perché quell'altro gli ha detto questo allora non viene ascoltato nel momento in cui ti tira la bomba è un po il gioco di buttare la bomba un po nasconde la mano sì perché perché ha paura che l'open rai non ci torna più e invece lui c'ha sempre c'ha sempre la voglia di tornare in rai perché il problema di morgan che te lo dice io gli ho detto scusami ma hai twitch hai qualsiasi cosa ma cazzo ma stai lì ma che te frega di andare in rai no ma che cosa te ne frega e invece lui c'ha questo secondo me morgan è stato coccolato tantissimo nei primi anni 2000 da mtv e mo è quasi abituato che gli è quasi dovuto lo spazio in televisione ma non è così certo purtroppo comunque noi dobbiamo salutarci secondo me ne usciranno pure fuori di altre live io volevo quasi dirlo lo rifacciamo lo rifacciamo te va di rifarlo chiedendo a me chiediamo luca cioè perché a noi ci è piaciuta così tanto che se vuoi ma io non ho nessun problema possiamo fare che l'appuntamento fisso io c'è finché posso parlare con qualcuno per capito di cui si può parlare liberamente di quello che succede in questo paese di cacca cioè e si può parlare tranquillamente senza siccome io non ho paura ma se non avete paura voi possiamo parlare tranquillo dai 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 cioè io godo se la rifacciamo più di una volta assolutamente pure marco ha detto giustamente mo perché noi durante la settimana di sanremo ci ci dedichiamo proprio a sanremo per parlarne analizzarlo quindi pure davido mi sembra ho letto la chat insomma poi in generale se accadono cose appunto nel mondo della musica secondo me si possono organizzare delle live dove se ne parla magari cediamo un po di tempo fra qualche tempo facciamo un aggiornamento anche a questa live oggi abbiamo toccato secondo me cioè questo è un argomento talmente ampio abbiamo parlato tanto abbiamo toccato una punta dell'iceberg servono un'altra quattro ore penso per arrivare in fondo quindi dai tu li sei trovato bene luca al cerbero io sono io sono contentissimo se io sono abituato a fare live di quattro ore quindi le faccio tranquillamente domani mercoledì sì quindi domani devo farla su x factor quindi sulla finale e quindi domani già mi scatenerò hai capito su che poi non la guardo apposta cioè io arrivo in diretta e capito e me la guardo me la gusto come c'è me la gusto per vuol dire mi incazzo per il più delle volte e quindi chissà che cosa dirò domani su fedez spero di no ma si è comportato molto fondamentale che cazzo è secondo me sono molto bravi gli stand pilots che sono l'unico gruppo sopravvissuto in tutta la kermess secondo me sono bravi ok ne apprezzo la freschezza però secondo me luca non io ho fatto ho fatto un punto dove quando ha fatto in no sunshine ho fatto lì sembrava che facesse no sunshine in giapponese però e no sunshine senza capito lì sembrava veramente in giapponese il no sunshine when she's gonna when she's gonna era qua pettinato come un manga però proprio stava bene tutto quanto la situazione però intendo dire diciamo che non ce ne manco uno in questo momento che dovrebbe stare là cioè c'è gente in giro io non so a Roma perché vengo ogni tanto ma vengo per questioni di proprio di faccio delle capatine su Roma di lavoro ma qui a Milano penso che ma anche se vado a Bergamo anche se vado a Napoli capito Roma sicuramente ci sono delle band di rock che sono 40 volte sopra cioè che fa se dovessero suonare metterebbero hai capito a tacere tutto il cucuzzaro lì cioè voglio dire tranquilli ma proprio c'è una tipo il Napan farebbero la fine capito posso lanciare una provocazione X Factor c'ha una triste tradizione con rock e qua potremmo chiudere la live io ho capito ho capito ah vabbè quello non l'avete toccati tutta la sera hai capito capito vabbè ah ne parleremo è troppo scontato è troppo semplice sì era semplice voi avete cioè stavate solo dicendo Maneskin però è finita lì capito quindi c'è finita morire no non è detto potresti pure che mi riferivo ai little pieces of marmalade là come si chiama ah vabbè allora insomma c'è tristezza grossa dai va bene dai ci sentiamo e niente andate ovviamente a seguire qui presente Luca nei suoi canali perché fa Twitch streama su Twitch e come dice lui fa live di 4 ore e passa dove fa quello che ha fatto qui adesso da noi però ancora più un cazzato ancora più a vedere proprio le clip però te posso dire una cosa Luca ma chi t'ha affatto fa a mettere su Twitch scappa finché se è in tempo è mondaccio è peggio dalla discografia italiana te lo dico ma sai perché lo sto facendo sai perché lo sto facendo perché invece mi sta appassionando perché un posto te lo posso dire un po' il cacchio che mi pare capito e lo posso dire veramente con una libertà che dalle altre parti non ho trovato poi ho notato una cosa c'è un sacco di donne qua che sono arrivate pure qui in chat tipo Giulie Linda tutti questi nickname che da noi non esistono cioè noi abbiamo tipo The Hell Explorer 666 capito nel senso questo è uno che la fa bagnare pure se te canta la canzone di Ringo esatto secondo me vedo un daddy sentivo un fremito anche io che sono eterosessuale quindi è un macello qua e basta vabbè comunque ho dovuto fondare la carboneria della musica ti rendi conto quindi l'ho fondata quindi questa è una cosa che te lo dico perché se è in carbonara pure tu e allora voglio entrare pure io mi devo informare basta che se fa pure la cace e pepe ora possiamo e vengo a Roma però cioè quando vengo a Roma se vengo non andiamo a mangiare non mi porti da qualche parte a mangiare quella che è per te perché poi io ho la passione della cucina quindi io conosco certi posti ma mi volete portare in un posto dove non vanno sempre tutti i soliti tutti i zaps che mi rompo maroni a mangiare una cace e pepe come Dio comanda magari in una trattoria accia di ultimo ordine va bene andremo a fare per cazzo te lo dico ce lo portiamo noi non ti mette sempre madonna franchino non si mette sempre Luca Iurma fisicamente in studio capiamo quando passerà per Roma a voglia a voglia dai regà buonanotte questa fa straordinaria ciao bellino buonanotte regà ciao che squali state arrivà è l'ho crocian questa nuova ascensione proprio porti il spedre da mia dai spedre state pure registrando